Un pomeriggio a tutti, introduciamo questa sessione sulle controverse sulla stimolazione ovarica. Il primo speaker è Filippo Ubaldi che tutti quanti conoscono e devo dire che dal titolo Il mito della mild stimulation credo anche di capire un po' in anticipo che cosa sarà il contenuto della relazione. Il titolo non ho scelto io, ma è da Andrea. Allora quello che pensava Andrea sulla tua relazione. Grazie, ringrazio Andrea, ringrazio Giovanni per l'invito. Sì, è stato un titolo, diciamo stimolante a proposito di stimolazione. Questo è il disclaimer, il mio conflitto di interesse. Allora, se noi andiamo a prendere l'iniquità dell'escere sull'induzione della crescita forale multipla pubblicata due anni fa, vediamo che c'è scritto che l'outcome critico, l'outcome più importante per la fecondazione in vitro è l'efficacia in termini di gravidanza cumulativa, in termini di bambino nato per ciclo iniziato. E per questo ovviamente diventa fondamentale il numero degli ovociti, ma è fondamentale anche l'età della paziente, perché vedremo dopo che il numero degli ovociti è un parametro, ma la composizione cromosomica dell'ovocita stesso è un altro e altrettanto importante parametro. Ma sempre un outcome di importanza critica è anche la sicurezza, la sicurezza in termini di sindrome di prestimolazione ovarica e nelle pazienti che sono a rischio di prestimolazione ovarica dovrebbe essere molto suggerito un protocollo con antagonista del GNRH, con agonista trigger e il rischio di gravidanze multiple. E per cercare di ridurre quanto più possibile il rischio di gravidanze multiple è da raccomandare il transfer di un singolo embrione, possibilmente, e questo l'abbiamo visto prima, cercando di selezionare o con la cultura balastocisti o con l'analisi strutturale e genetica dell'embrione stesso, l'embrione che ha più possibilità di dar luogo a una gravidanza evolutiva. E che questa misura sia importante è riconosciuto anche dal fatto che il registro americano prende questa misura come l'outcome che poi presenta nel registro stesso. Ossia come outcome è il tasso cumulativo di Nato per prelievo ovocitario. Scusate, per prelievo ovocitario. Questo che cosa fa? Riduce, in questo tipo di approccio, l'incentivo a trasferire più embrioni. Se non è più importante che ogni transfer deve dare il massimo delle probabilità di gravidanza, ma la gravidanza e il successo è visto come ottenere un bambino per ciclo iniziato, ecco che io posso andare a trasferire meno embrioni e quindi ridurre il rischio di gravidanze multiple. Per sposare però questo tipo di approccio è mandatorio cercare di massimizzare il numero di ovociti da recuperare per ciclo di stimolazione, per prelievo ovocitario, avere ottimi sistemi di coltura e avere un buon programma di criopreservazione. Che il numero degli ovociti aumentino i tassi cumulativi di nascita, l'aveva già fatto vedere Sesh Sankara nel 2011 portando quel lavoro su Viva Reproduction del registro inglese su 400.000 cicli che faceva vedere come le probabilità di gravidanza fresco raggiungevano il massimo con 10-15 ovociti dopodiché si raggiungeva un plateau e una diminuzione con l'aumento del numero delle uova ma da un punto di vista cumulativo le percentuali di gravidanza aumentavano. Qui stavamo nel 2011 poi ci sono state altre pubblicazioni questa per esempio di Dracopolis nel 2016 che fa vedere come all'aumento del numero dei ovociti aumenti significativamente il tasso cumulativo di Nato. Questo è un lavoro di Polizos nel 2017 su 15.000 donne e che lo stesso fa vedere che aumentando il numero dei ovociti aumenta e continua ad aumentare i tassi cumulativi e l'anno dopo 221.000 trattamenti del gruppo australiano di Venetis fa vedere che questo è vero per tutte le categorie di pazienti in funzione della loro realtà. Quello che dicevamo prima è che si pensa che aumentando il numero dei ovociti si viene a determinare una riduzione della qualità di competenza embrionaria. In realtà non è così questa si basa su, appunto l'ho detto prima nell'intervento su un lavoro fatto da Esther Barth nel 2007 quando gli olandesi avevano introdotto molto il concetto della maestimolazione e anch'io personalmente in quel periodo la utilizzavo molto ma poi gli studi fatti per andare a vedere la costituzione cromosomica di embrioni hanno fatto vedere come aumentando il numero di ovociti in realtà esiste una correlazione significativa tra numero di embrioni euploidi e numero di ovociti recuperati e che il tasso di euploidia rimane costante indipendentemente dal numero di ovociti recuperati cioè se io recupero 10 uova in una popolazione diciamo medio giovane dei pazienti avrò il 60% di euploidia se ne recupero 20 ne avrò il 60% se ne recupero 30 e così via e questo nel 2019 è stato confermato ma ci sono altri studi il gruppo sempre di Valencia ha fatto vedere in confronto anche con i cicli spontanei con i cicli naturali che non si viene a determinare una differenza tra l'euploidia sul ciclo spontaneo e l'euploidia dopo stimolazione e un'altra cosa che spesso si sente dire è che se io do più gonadotropine le uova sono di più scarsa qualità in realtà apparentemente non è così questo qui è un lavoro cinese pubblicato nel 2017 e 4.034 blastocisti analizzati e potete vedere come indipendentemente dal quantitativo totale di gonadotropine somministrate il tasso di blastocisti euploidi rimane costante sia che le gonadotropine siano 3.000 3.500 o più o più di 5.000 diminuisce soltanto con l'aumentare della donna e ancora quest'altro lavoro sempre sui numeri production fa vedere come il tasso di aneuploidia non si modifichi in funzione del numero di gonadotropine della quantità totale di gonadotropine somministrate né del numero di ovociti recuperati e che aumentando il numero di ovociti io aumento la probabilità di trovare una blastocisti euploidi è riportata su questa tabella che riporta l'analisi mediante NGS di più di 100.000 embrioni che è stata pubblicata nel lavoro su Fertility Sterility che celebra i 40 anni della fecondazione in vitro e vedete come aumentando il numero di embrioni io aumento la probabilità di trovare almeno una blastocisti sana anche da un punto di vista clinico l'aumento del numero di ovociti che io recupero non determina un peggioramento né dei tassi di aborto né degli outcome ostetrici o perinatali in accordo a questi due lavori il 2014 di Sankara e in questo lavoro il 2018 di Cristina Berg quindi noi dovremmo cercare di massimizzare il numero di ovociti per cercare di massimizzare i tassi cumulativi di nascita e quindi quando e soprattutto a chi andare a suggerire la stimolazione minima in quali condizioni sicuramente la prima condizione è quando i programmi di crioconservazione non sono ottimali voglio ricordare qui non c'è Giulia ma nel report del 2020 che fa riferimento al 2018 il credo se non ricordo male l'8% quindi circa il 10% dei centri in Italia non congelano né uova né embrioni capite che se un centro non congelano né uova né embrioni inutile che io prendo 20 uova o 15 uova me ne bastano 4 o 5 ne insemino 4 o 5 e ottengo quei 2 o 3 embrioni e li vado a trasferire ma la domanda del titolo rimane che cosa conviene fare mild o convenzionale nelle normo responder nelle high responder o nelle poor responder andiamo a vedere cosa ci dice la letteratura questa è una una review sistematica una meta-analisi di Gita Nargund pubblicata su Humor Production Updates un paio di mesi fa e voglio dire Gita Nargund è diciamo una strenua sostenitrice del natural cycle della minima stimolazione e vedete in questa meta-analisi che riporta un buon numero di lavori i tassi di gravidanza per bambino nato sono per transfer sono assolutamente comparabili sia se io utilizzo la stimolazione minima sia se la stimolazione convenzionale sia nelle normo responder sia nelle poor responder e sia nelle hyper responder ovviamente il rischio di iperstimolazione risulta essere significativamente inferiore se uso la mild stimolazione nelle pazienti normo e nelle pazienti high responder ma voglio far notare che questi lavori vanno dal 1995 al 2012 e quando ancora l'approccio dell'agonist trigger non è stato preso in considerazione infatti se io utilizzo il protocollo con l'antagonista del GNRH e l'agonist trigger è praticamente riduco virtualmente a zero il rischio della sindrome hyperstimolazione ma prendono in considerazione perché questa è la prima meta analisi che prende in considerazione anche i tassi di gravidanza accumulativa per quanto riguarda la mild versus la stimolazione convenzionale e i tassi di gravidanza accumulativa vedete qui non sono significativi diversi se utilizzo la mild stimolazione o la stimolazione convenzionale tuttavia dobbiamo prendere in considerazione alcuni punti di riflessione primo sono 5 studi in questa meta analisi in 14 anni di tempo che vengono da gruppi olandesi e in Olanda considerano come tasso di gravidanza accumulativa non per ciclo iniziato ma per periodo di tempo cioè per 18 mesi quindi in questi 18 mesi il cumulativo sono quanti prelievi velocitari tu fai e gli stessi autori dicono che c'è una qualità di evidenza bassa a moderata e in conclusione di questa di questa meta analisi l'evidenza dell'efficacia della malstimulazione non ha raggiunto un'elevata qualità gli outcome cumulativi dovrebbero essere espressi per prelievo velocitario e rispetto a un tempo cumulativo di 18 mesi dove fai dentro prelievo velocitario in questo periodo e poi ovviamente bisogna definire bene appunto cosa intendiamo per tasso cumulativo e quindi per ciclo iniziato per stimolazione e bisogna specificare quali sono le caratteristiche che tipo di mild viene applicata ma se noi andiamo a vedere le linee guida dell'escere le linee guida dell'escere dice che non è probabilmente raccomandata la malstimulazione normal responder che non c'è evidenza di raccomandare l'uso del cromifene nelle pazienti normal responder e nelle hyper responder lo stesso il cromifene non ha che senso di essere utilizzato e mentre quando nelle hyper responder quelle che sono diciamo che si sospetta che possono avere una risposta esagerata in base ai parametri di predizione e tu utilizzi un protocollo con gli agonisti delle GNRH in questi pazienti devi ridurre la dose di partenza quindi devi adottare una sorta di stimolazione minima ma ricordiamo che se in questi pazienti noi adottiamo l'agonist trigger il rischio di sindrome per stimolazione risulta essere virtualmente zerata e quindi nelle hyper responder che cosa facciamo nelle pure responder e sempre Dracopoulos ha fatto un confronto tra stimolazione convenzionale versus ciclo spontaneo e ha fatto vedere come quando io ho più di un ovocita la stimolazione convenzionale migliora significativamente in tutti i parametri presi in considerazione il numero medio di ocidi recuperati il minor tasso di cancellazione i pazienti che riescono a raggiungere un transfer embrionario tasso di impianto pazienti con embrioni conservati e tutti gli altri parametri clinici sempre Ghida Nargon due anni prima quindi nel 2020 ha pubblicato su RBM online questa revisione sistematica letteratura e meta-analisi solo sulle pure responder e conclude dicendo che la stimolazione minima versus la stimolazione convenzionale per gravidanza per transfer non porta differenze tuttavia se noi andiamo a vedere il numero di osciti di embrioni che si riescono ad ottenere questo con la stimolazione convenzionale significativamente superiore rispetto alla stimolazione mild come riportato appunto in questa meta-analisi e concludono gli autori dicendo che ci devono essere più evidenze sui tassi di gravidanza accumulativa ma cosa dicono le società internazionali le società internazionali dicono che nelle pure responder o utilizzi la male stimolazione o utilizzi la stimolazione convenzionale non c'è differenza quindi poiché si riduce la quantità di gonodotropine utilizzate si riduce il tempo eccetera è raccomandabile utilizzare la minima la stimolazione la stimolazione mild sempre però sempre però per non ci sono differenze per transfer ma se non ci sono differenze tra la mild stimolazione nelle pure responder rispetto alla stimolazione convenzionale che dire se io utilizzo delle stimolazioni non convenzionali per cercare di massimizzare il numero di usciti per ciclo ovarico nelle pazienti pure responder dobbiamo considerare che ci sono degli importanti punti su cui riflettere che riguardano le pazienti pure responder questi pazienti hanno un ridotto numero di follicoli disponibile e la maggior parte delle pazienti pure responder sono anche pazienti con età materna avanzata quindi richiederebbero ancora di più rispetto alle giovani un numero maggiore di usciti per aumentare la probabilità di trovare quello cromosomicamente sano hanno un ridotto tasso per il concebimento disponibile e inoltre sono più a rischio di drop out rispetto alle pazienti più a buona prognosi e quindi perché non cercare di massimizzare per unità di tempo per ciclo ovarico il numero di usciti questo qui è il nostro primo lavoro che abbiamo pubblicato su Fertile di Strie del 2016 su un'idea di Quang del 2014 di cercare di massimizzare il numero di usciti che si possono recuperare per ciclo ovarico e in questo lavoro noi volevamo soprattutto vedere perché il criticismo era e l'abbiamo visto anche oggi nella discussione nell'ultima sessione il criticismo era ma quelle uova che sono durante la fase ruteale che sono sotto l'effetto di progesterone sotto l'effetto di estrogeni in quantità massivi durante la prima stimolazione che uova sono e quindi noi volevamo andare a vedere la struttura delle uova e quindi in questo primo lavoro abbiamo confrontato lo stato di euploidia degli embrioni ottenuti questo qui è il protocollo che tutti quanti conoscono e poi questa qui due anni dopo abbiamo pubblicato su Human Reproduction 188 pazienti 170 che avevano completato lo studio e abbiamo visto alcuni dati che poi sono stati confermati in studi successivi non soltanto nostri ma di tutti gli altri che l'hanno fatto e che il numero di usciti recuperato è significativamente maggiore durante la fase luteale tasso di fecondazione uguale essendo uguale il tasso di fecondazione perché ho più usciti nella fase luteale nella fase luteale avrò un numero maggiore di blastocisti e l'euploidia risulta essere sovrapponibile e quando noi andiamo a trasferire i blastocisti queste offrono percentuali di gravidanza ongoing che sono sovrapponibili sia quelle che provengono dalla fase follicolare sia quelle che provengono dalla fase luteale uno studio multicentrico ha fatto vedere come è confermato questi dati e il dato clinico più importante è che se noi consideriamo l'unità di tempo un ciclo ovarico per ciclo ovarico con la doppia stimolazione riusciranno ad ottenere nel 65% dei casi almeno una blastocisti eploide versus il 42% se avesse fatto la stimolazione convenzionale ma che cosa succede nelle pazienti realmente pur nelle pazienti di Bologna e queste qui nel 2020 infertile di sterility abbiamo visto come soprattutto andando a confrontare la doppia stimolazione con due cicli convenzionali sia una riduzione significativa del drop out una riduzione significativa del numero di giorni tra un prelevo ocitario e l'altro e un live birth ottenuto per intention to treat che risulta essere c'è un trend statistico ma quando si parla si introduce una nuova tecnica bisogna vedere i bambini e questo è uno studio sempre di un paio di anni fa che fa vedere come 389 pazienti avevano trasferito una a una blastocisti singola eploide 182 ottenuto dalla fase follicolare e 207 dalla fase luteale e in 126 pazienti la selezione delle blastocisti era andata in modo random il live birth per single embryo transfer risultato essere comparabile sia nelle blastocisti non selezionate random sia quelle selezionate random e quando siamo andati a vedere il peso alla nascita e il numero di settimane gestazionali non ci sono state differenze tra i bambini nati dopo transferi di blastocisti follicolari o ottenuto con stimolazione follicolare o quelle ottenute con stimolazione luteale questo è uno degli ultimi lavori il primo autore Alberto Vagliarelli è una del 2020 è una review della letteratura quindi stiamo parlando del 2019 al 2019 c'erano più di 26 lavori pubblicati gruppi anche indipendenti che confermano questi dati e se noi però andiamo a vedere le linee guida pubblicate nel 2020 ma che la cui redazione è stata fatta nel 2018 2019 la doppia stimolazione viene rilegata che può essere usata nel contesto di ricerca clinica o al massimo quando deve essere non ci abbiamo tempo per nel caso di pazienti oncologiche questa è l'ultima diapositiva e concludo con questa che è il primo studio prospettico randomizzato che è stato presentato come comunicazione orale dal gruppo di Quanch Berasco e in cui compare in maniera prospettica randomizzata la doppia stimolazione versus le due stimolazioni convenzionali e quello che è emerso che c'è una riduzione significativa del numero di giorni per l'ottenimento di una blastocistioploide quindi questo qui traslato vuol dire che abbiamo una riduzione del tempo alla gravidanza in queste pazienti nelle pazienti pure responder questo qui è un parametro molto importante quindi concludendo l'outcome critico e più importante per la fecondazione in vitro è efficace in termini di tasso cumulativo di bambino nato per ciclo di stimolazione per pleo velocitario così come la sicurezza in termini di prestimolazione e di riduzione di gravidanza multiple in questo caso il numero di usciti diventa di massima importanza per cercare di massimizzare questo parametro aumentando il numero di usciti aumenta il tasso cumulativo di bambino nato per recupero velocitario la stimolazione mild offre delle live birth che sono comparabili per embryo transfer riduce il rischio di prestimolazione ovarica in norma in hyper responder se non viene utilizzato il lagonist trigger riduce il consumo di gonotropine e aumenta il tasso di cancellazione nelle poor responder per quanto riguarda l'analisi dei tassi di gravidanza cumulativa in letteratura è riportato soltanto quello che riguarda non per ciclo iniziato ma per periodo di tempo la doppia stimolazione riduce il tempo per trovare una blastocisti competente quindi riporto il risultato dello studio prospettico randomizzato e riducendo però anche il drop out versus due stimolazioni convenzionali e possiamo ottenere dei simili risultati outcome clinici ostetici per i natali se trasferiamo blastocisti ottenute dopo stimolazione follicolare o dopo stimolazione luteale è ancora aperto il discorso è aperto sia da un punto di vista clinico ma soprattutto è aperto da un punto di vista di ricerca di base perché si è aperto un nuovo mondo per andare a ricercare a studiare a investigare quello che succede negli ovociti nelle cellule granulose per esempio durante la fase luteale grazie per l'attenzione grazie Filippo le domande a dopo invito il dottor Papaleo a tenere la sua relazione semplificazione versus personalizzazione della stimolazione ovarica il dilemma prego Enrico 20 minuti per te buongiorno a tutti grazie un ringraziamento ad Andrea e a Tecnobio insomma a tutti voi che avete avuto la voglia di ripartire invitarci tutti una volta ancora qui perché è emozionante dopo tanto tempo rientrare in un'aula e poter poter chiacchierare insieme e parlare l'argomento che mi è stato sfidato parla di gonadotropine quindi in primis mi preme dire che ovviamente come tanti di voi anche io ho dei conflitti di interesse perché collaboro con tante aziende riceviamo come gruppo e come anche ospedale tanti grant e supporto da parte delle aziende la parte che è diciamo a me dedicata è meno del 5% di quello che tutto ricevo tramite le company vado un po' veloce sulla prima parte dove si è già detto tanto e si è detto soprattutto che noi dobbiamo parlare di life birth cioè qualunque nostra scelta qualunque strategia qualunque farmaco qualunque idea trattamento aggiuntivo deve essere miglior deve essere mirato a migliorare il goal finale che sono i bimbi e diciamo questa lista di indicatori per noi clinici ci dice che è importante per vedere come lavoriamo sapere quanti sono gli ovociti maturi che raccogliamo sul totale degli ovociti il nostro clinical pregnancy e soprattutto quante gravidanze multiple facciamo ossia quante chiamiamole tra virgolette errori oggi nel 2021 quindi un end point non è solo gli ovociti o gli embrioni probabilmente qui sta la grande differenza tra personalizzazione o semplificazione cioè nell'idea di aver bisogno di massimizzare e questo è il concetto di chi taylor diciamo personalizza molto la stimolazione o di semplificare cioè andare a ottimizzare quel ciclo con un buon transfer su fresco e forse qualche embrione congelato il trend sicuramente da tanti anni a questa parte è quello di produrre più embrioni possibili e comunque ne congeliamo tanti io non so voi ma noi abbiamo bisogno di più metri quadri ogni anno ci stiamo lentamente allargando stiamo chiudendo ambulatori aprendo banche crio perché produciamo e lasciamo congelati tanti embrioni molti probabilmente aneuploidi qualcuno penso anche euploide e quindi se ogni anno mettiamo via circa 40.000 embrioni in più in una decina d'anni avremo i nostri 500.000 embrioni congelati in più quindi nell'omento in cui dobbiamo decidere tra semplificare la terapia o personalizzare la terapia secondo me questo è un po' il concetto finale ragionare di questi due modelli una buona Fivetixi con un buon transfer ed eventualmente embrioni crio o massimizzare la produzione di ovociti di embrioni e lavorare molto sul cumulative che vuol dire da un lato ottimizzare forse anche quel ciclo ma anche congelare tanto avere tanti embrioni in più che forse non utilizzeremo mai cosa vuol dire quindi personalizzare la terapia scegliere il protocollo scegliere il tipo di gonadotropine la starting dose correggere la dose e questo avviene inoltre il 45% dei casi da questa metanalisi che è stata pubblicata recentemente nel 2021 scegliere il tipo di trigger e il tipo la durata del supporto della fase di tale cioè la possibilità di personalizzare è molto complessa non posso parlare di tutto anche perché i minuti sono solo 20 quindi mi focalizzo su tre dilemmi c'è una gonadotropina migliore di un'altra perché queste domande ce la fa anche la paziente che arriva da un altro centro c'è un'ottima starting dose abbiamo delle strategie che miglioreranno la mia prognosi sicuramente ecco queste sono un po' i tre punti che voglio vedere velocemente con voi per quanto riguarda la scelta della gonadotropina e come parlavamo prima e come diceva giustamente Carlo è veramente difficile organizzare degli studi grossi randomizzati con un sample size valido si parla di mille pazienti o più allora l'unico modo per capirlo è prendere tutti gli studi randomizzati grossi con sample size valido tendenzialmente sponsorizzati perché loro hanno i soldi per poterli fare hanno la possibilità di coinvolgere tanti centri e possono andare a vedere come vanno le cose e questi studi li vengono fatti dalle company quando per esempio hanno bisogno di registrare i farmaci quindi si rivolgono a una popolazione molto eterogenea non ai sottogruppi beh nel tempo allora andandoci a vedere tutti gli studi vecchi per esempio tra l'HMG e l'FSH ricombinante ne abbiamo tanti da poter leggere e sostanzialmente il risultato di questi studi che sono un po' vecchi ma che avevano un N importante dicevano che sul ciclo il tasso di gravidanza era sostanzialmente sovrapponibile tra i due gruppi e quindi quello che troviamo oggi di grosso in letteratura è che non c'è un'evidenza di un miglior farmaco rispetto a un altro di una miglior gonotropina rispetto a un'altra e infatti l'ESCERE prendendo spunto da questi studi sostanzialmente risponde alla domanda abbiamo un tipo di farmaco che ha maggiore efficacia o sicurezza dicendo no non abbiamo in realtà nessun dato che ci dica che una molecola è meglio di un'altra e lo pubblica nelle sue linee guida poi entriamo un po' nel dettaglio dei ricombinanti i ricombinanti sono oggi un certo numero siamo partiti con l'alfa e il beta abbiamo i biosimilari abbiamo la delta abbiamo la corifollitropina e poi avremo probabilmente negli giorni qualche anno anche la Epsilon non se ne è mai non ho trovato grandissimi studi vecchi che confrontassero l'alfa con la beta è come se alla fine abbiamo dato subito per assunto che arrivati i ricombinanti erano assolutamente uguali cambiavano un po' le starting dose ma perché probabilmente il device prevedeva delle tacche sulle penne un pochino differenti c'è stato molto più dibattito invece con l'introduzione dei biosimilari perché perché se e questo siamo tutti d'accordo l'endpoint è il bimbo in braccio i biosimilari sono entrati in commercio presentando dei lavori dove l'endpoint era il numero di ovociti e questo è stato abbastanza criticato dalla comunità scientifica è vero il numero di ovociti era simile però qualcuno ha subito posto delle domande dicendo sono simili ma realmente funzionano uguali sì no diciamo che non abbiamo nessun dato per poter rispondere noi non c'è un lavoro randomizzato grosso che ci dica che A è meglio di B o di C d'altro canto non possiamo neanche dire che siano uguali eh però qua siamo scienziati se non abbiamo lavori per cui poterlo giudicare non spetta a noi dire se realmente c'è qualcosa di meglio o di diverso tra le chiamiamole tre molecole la molecola base e i due biosimilari quindi qualcuno come vi dicevo Raul Orvieto ha pubblicato subito dopo poco questo lavoro dove faceva vedere che il tasso di iperstimolo con il biosimilari era un pochino più alto rispetto a quello con la molecola base quindi il gonalef lo stesso valeva per l'Ovalip rispetto al gonalef e lo stesso valeva guardando i dati sulla pregnancy dove effettivamente vedeva delle differenze non significative perché nessuno di quegli studi era stato tarato per andare a vedere il live burn rate l'EMA richiedeva per la registrazione che la molecola biosimilare avesse lo stessa efficacia in termini di numero di ovociti recuperati e quindi diciamo che anche sui biosimilari abbiamo poco da dire perché non abbiamo dei lavori che dicano qualcosa o il contrario di quello che vogliamo dire diverso il discorso per la corifollitropida che in termini di semplificazione per me rimane un farmaco semplicissimo una puntura e ci vediamo tra sette giorni questo un po' è lo schema che viene suggerito nell'utilizzo in termini di efficacia beh nuovamente dobbiamo prenderci gli studi registrativi sono studi con un sample size grosso quindi validi mirati per vedere quegli end point e i tassi di gravidanza sono sovrapponibili sia tra la corifollitropina che l'FSH daily è entrato poi in commercio negli ultimi anni la delta e anche qui ancora una volta se andiamo a vedere gli studi registrativi il confronto tra le due molecole non ha mostrato nessuna differenza significativa a vantaggio di una o dell'altra molecola e avremo nei prossimi anni non lo sappiamo ancora presumibilmente una nuova un nuovo ricombinante una folitropina epsilon quindi sostanzialmente sul tipo di gonadotropina non abbiamo da dare una grande risposta e l'altra domanda è serve avere il protocollo misto perché è un protocollo che viene utilizzato viene prescritto molte pazienti arrivano da altri centri e noi stessi qualche volta usiamo una combinazione di gonadotropine per avere l'effetto benefico sostanzialmente dell'LH o dell'HMG i grossi studi diciamo anche qui non un registrativo ma uno studio grosso che voleva andare a confrontare l'FSH da solo verso l'FSH più l'LH che è lo studio ESPART non ha visto un reale beneficio però qui il dibattito aperto come diceva giustamente prima Carlo qua bisogna andare a identificare meglio la paziente che un domani potrà avere beneficio da quell'LH il problema è che una volta identificata quella paziente bisogna avere il coraggio di costruire lo studio e di andare a vedere se sui grandi numeri veramente poi avremo quel beneficio che in linea teorica c'è perché la relazione di Carlo e quella che ci ha preceduto ci hanno fatto vedere tutti i vantaggi di questo quindi capire se dopo i 35 anni visto che questo Delphi Consensus nel quale hanno partecipato tanti è abbastanza concorda nel dire che sotto i 35 anni non serve avere due gonadotropine e poi arriviamo all'ultimo punto o meglio il punto più bello probabilmente la starting dose e qui abbiamo Antonio che ha per anni portato avanti in maniera molto elegante molto bella in omogrammi la possibilità di personalizzare al massimo anche la starting dose e gli olandesi con Frank Breckmans che improvvisamente hanno capovolto la questione che poi probabilmente sarà il dibattito sul quale possiamo chiacchierare parliamo dell'optimist inutile che lo ripresentiamo l'abbiamo letto tutti conosciamo i tre bracci e tutti i benefici o i limiti di questo lavoro che rimane comunque il più grosso come n in ambito di medicina di riproduzione quindi globalmente c'è anche una riduzione di costi usando una dose unica rispetto alla scelta di tre differenti dosi per tre differenti categorie di pazienti sulle hyperresponders secondo me è un po' filosofico c'è un aumento di rischio di iperstimolo ma loro hanno applicato il protocollo long oggi con l'antagonista possiamo decidere di usare 100 unità o 150 unità a fare il trigger con l'antagonista e non avere grandi problematiche sostanzialmente ce lo ricorda Leschre l'ha fatto vedere molto bene prima Filippo Baldi cioè questa è una certezza chiunque sia a rischio di iperrisposta deve fare un protocollo con l'antagonista e il rischio di iperstimolo sostanzialmente tende a zero quello che ha rotto il muro che non è brick ma è break è veramente sulle pur perché adesso vi faccio vedere quello che mi sono un po' letto e ho notato beh loro ci dicono che sostanzialmente usando soltanto 150 unità in pazienti diciamo a bassa prognosi quindi con una ridotta riserva avarica discutibile perché loro arrivano fino a 7 e poi fino a 11 follicoli antrali però diciamo che loro dicono che si arriva ad avere sostanzialmente lo stesso cumulative nell'arco di tempo e una significativa riduzione dei costi cioè usiamo meno gonadotropine e arriveremo comunque al gol nello stesso tempo per lo stesso tipo di pazienti secondo me la cosa un po' ha sorpreso la comunità scientifica ad esempio Human nel 2021 recentemente ha pubblicato questo lavoro che ha più limiti che meriti secondo me perché è un randomizzato a 4 bracci con 150 pazienti totali quindi capite che stiamo parlando di 30 pazienti per braccio ma l'ha voluto pubblicare nel senso che loro vedono che gonadotropine più colomifene a 150 unità o gonadotropine a 450 unità più colomifene nelle pur responder non cambia la prognosi probabilmente 5 anni fa mai avrebbero pubblicato un lavoro del genere oggi c'è un po' più di interesse a indagare meglio cosa ci può essere in futuro per le pur responder l'escere rimane un po' vago con le sue linee guida dice ma non sappiamo se 150 va effettivamente raccomandata suggerita a tutte le pazienti pur ma di sicuro non serve che voi prescriviate più di 300 unità che vuol dire ad esempio che in protocolli con due gonadotropine differenti sommando le unità molte volte forse noi prescriviamo troppe gonadotropine Beh Brueckmans ci insiste sul concetto mi raccomando è arrivato il momento di ridurre significativamente le unità di gonadotropine che potete prescrivere quando la paziente abbassa prognosi è una pur responder e parlavamo proprio prima di Dracopulos e di Polizos anche loro che nel 2016 l'avete già visto pubblicano questo lavoro dove fanno vedere molto importante il tasso di cumulativo all'aumentare del numero di ovociti recuperati loro stessi loro stessi però poi quest'anno appena pubblicato dicono sì è vero però nell'epur ragioniamoci un attimo la mild stimulation potrebbe essere uguale per me adesso io non voglio entrare nel dettaglio mild o conventional ma il concetto è facciamo un passo dietro forse non serve che noi andiamo a usare così tante gonadotropine così elevati livelli di gonadotropine perché alla fine in questa tipologia di pazienti le pur è veramente difficile capire cos'è il meglio per loro e allora tenendo tutto insieme anche in un'ottica di costi e di semplificazione della terapia per la paziente facciamo una riflessione e capiamo se veramente ha senso protocolli troppo articolati quanto ci vuole a cambiare idea perché l'optimist è stato pubblicato nel 2018 abbiamo fatto un giochino ho coinvolto altre sei cliniche e ho detto ma voi dopo l'optimist avete cambiato un po' strategia in realtà il cambio di strategia è lento è lento tanto che soltanto una piccola parte di noi circa il 4% dei nostri cicli è passato abbiamo confrontato quanti cicli con 150 unità sono stati fatti nel 2018 rispetto a quanti cicli con 150 unità sono stati fatti nel 2019 quindi a cavallo della pubblicazione dell'optimist e c'è stato un incremento significativo perché parlavamo di 2500 cicli del 4% ma in parallelo si è ridotto il numero di prescrizioni ad alto dosaggio e forse questo è il vero punto questo perché perché stiamo cercando di capire meglio tutti gli altri fattori quindi l'età la qualità qualcosa che magari non sappiamo intrinseca della donna mentre invece con la stimolazione agiamo solo sul numero di ovociti che andiamo a produrre ma il bimbo è multifattoriale e quindi spinta dagli olandesi sta un po' ritornando in auge questo concetto che non abbiamo bisogno forse di così tanti ovociti quindi di stimolazioni sovramassimali quindi troppo tailored per le pazienti pur responder ce ne serve forse qualcuno meno diciamo di buona qualità certo questo sarebbe l'ideale un ovocito un embrione un bimbo però probabilmente ti bastano anche meno uova per arrivare a quel target in quella tipologia di paziente volo perché qua Filippo ne ha già ovviamente parlato ma sempre solo per dire che come dicevamo prima stanno ritornando a questo tipo di pubblicazioni cioè questo è un po' il concetto l'Optimi secondo me ha riaperto il dibattito su questa tipologia di approccio meno tailored più mild meno ad alti dosaggi più semplice che è il concetto del titolo della mia relazione quindi non vado nel dettaglio di questa metanalisi però scusatemi la metanalisi conclude dicendo ecco qua no non riesco vabbè questa metanalisi conclude che alla fine forse è importante come diceva Filippo fare molto bene una cosa fare il frisol nelle pazienti a rischio di iper risposta cioè qui è forse la vera strategia che negli ultimi cinque anni ci ha cambiato il modo di lavorare congelare embrioni con o senza diagnosi preimpianto con o senza la valutazione l'embrioscopo quant'altro ma quello che forse veramente negli ultimi cinque anni ci ha cambiato l'approccio al paziente è stato introdurre il frisol dobbiamo capire a chi farlo perché per esempio il registro americano ci dice di stare un po' attenti in chi è poor responder congelare in chi ha bassa prognosi pochi ovociti è poco efficace rispetto a congelare in pazienti normo o meglio ancora hyper dove diventa la strategia si riduce il problema del progesterone elevato dell'iperestrogenismo di endometri meno recettivi ma in chi ha poco qui probabilmente anche questo è un altro punto che nei prossimi anni verrà discusso di più e quindi arrivo alla parte finale che è un po' quello che mi è stato chiesto semplifichiamo o personalizziamo beh diciamo che i grandi studi pubblicati tutti quelli sponsorizzati perché poi sono quelli che hanno la forza economica e anche gestionale per portarli avanti non ha mostrato alcun beneficio oggi nei termini del life birth tra una gonadotropina e l'altra c'è un nuovo interesse verso stimolazioni più semplici chiamiamole standard chiamiamole con un livello di gonadotropine non personalizzato mi permetto di dire mild ma è un concetto un po' diverso soprattutto nelle pur rispondere o nelle normo mentre invece la vera personalizzazione oggi non è tanto sulla scelta della gonadotropina o della tartindosa ma è sul protocollo nelle hyper dobbiamo assolutamente ma lo facciamo già bene lo facciamo da tanto usare l'antagonista fare il trigger con l'analogo e congelare per ridurre i rischi e ottimizzare le possibilità per quella donna e infatti finisco con questa diapositiva tra le dieci priorità di ricerca future non c'è l'induzione dell'ovulazione se si eccettua nelle pazienti pur responder il punto 2 qual è il trattamento ideale per approcciare questa paziente a bassa prognosi che è difficile e che darà da qualunque lato l'andiamo a guardare sempre poche gravidanze grazie grazie allora a questo punto introduciamo Edgardo Somigliana e il titolo della sua relazione è Dual Trigger Facts or Fiction grazie Mauro grazie a tutti grazie a Andrea e Giovanni per l'invito vorrei solo segnalare una cosa per cominciare a fare il polemico che dal fondo non si vede niente delle diapositive per cui forse anche almeno per domani se mettete qualche schermo in più potrebbe essere un vantaggio allora ho dei conflitti di interesse da responsabile di un centro ho dei conflitti di interesse personale ho ricevuto dei soldi per parlare dei congressi da Teramex Geddon Richter Maxerono istituzionale perché gestisco dei grant di ricerca ho ricevuto donazioni da Ferring Teramex Geddon Richter e Maxerono visto che questa presentazione è sui farmaci penso che sia importante sottolineare questo aspetto da un punto di vista clinico sono soprattutto impegnato in PMA per cui tendo ad essere a favore del PMA dal punto di vista economico la metà del mio intro ti viene dalla libera professione e poi questo conflitto PAC di cui a volte discutiamo cioè che è il fatto di lavorare nel pubblico ne ha già accennato stamattina io vorrei sottolineare una cosa che lavorare nel pubblico non significa che non ci sono i soldi il pubblico ha tantissimi soldi chi è che si è preso sulle spalle il covid chi è che ha vaccinato milioni di persone in pochi mesi chi è che tratta le malattie orfane con farmaci che costano decine di miliardi di euro il nostro ospedale il mio ospedale spende 100 milioni all'anno di farmaci di file F quindi non è vero che non ci sono i soldi è che però il sistema sanitario ha il dovere di impegnare i soldi bene perché sono i soldi delle tasse di tutti quindi se non mette la PGTA avrà fatto le sue considerazioni adesso non voglio pensare solo all'Italia ma se non lo ha fatto la Francia il migliore sistema sanitario al mondo se non lo ha fatto l'Inghilterra il migliore sistema sanitario al mondo secondo me unico a pensarlo comunque questo è per dire che io difendo il pubblico non penso che lavorare nel pubblico ti dia meno opportunità e infine sono viceeditore di Human Reproduction Open allora cominciamo con la conclusione questi sono dei statement del Eschre sulla dual trigger lo leggo per chi non lo vede the addition of gene race agonist to HCG as dual trigger for final or side maturation is probably not recommended for predicted normal responders per cui chi non lo fa non sbaglia però chi lo fa in realtà un po' è concesso perché guardate le parole dice probably cosa significa? significa che ci sono delle evidenze ma non sono conclusive per cui come in America sniper libero scegli tu se farlo o non farlo e poi normal responders non poor responders che invece è una delle popolazioni che forse ci interesserebbe di più perché questo? perché sulle poor responders non c'è niente quindi una linea guida se non c'è niente o c'è troppo poco non la menziona nemmeno la linea guida deve dirti questo si fa deve dirti questo non si fa oppure prendere una via di mezzo perché ci sono molte evidenze ma non abbastanza come fa in questa raccomandazione ma veniamo ripartiamo dalla base perché il dual trigger cioè perché pensare a dare anche una componente FSH per l'induzione finale della maturazione questo disegno lo sappiamo lo conosciamo tutti in tutti i libri che abbiamo studiato ma mi concentro sulla parte in alto vedete che quando c'è il picco di LH sotto c'è un picco di FSH che a volte sembra quasi un epifenomeno forse così nel GNRH che viene liberato da ipotra l'uomo sbaglia e fa salire anche un po' l'FSH beh però intanto l'FSH durante il picco raggiunge il suo massimo livello del mese e poi non è che perché è più grande è più importante solo perché è più basso è meno importante però questa cosa ammetto che io ma penso molti di noi non ci abbiamo dato molta importanza per anni eppure ci sono delle evidenze che dimostrano queste tre cose che l'FSH facilita la formazione dei recettori dell'LH nelle cellule granulose quindi facilita il compito dell'LH il picco sto parlando del picco non dell'FSH dato prima facilita la maturazione nucleare e facilita l'espansione del cumulo non sono proprio piccole funzioni e uno dice sì ma noi ce li siamo sempre riusciti anche senza e beh qua perché probabilmente c'è un effetto di ridondanza un effetto di sovrapposizione comunque è chiaro che i follicoli che hanno concentrazioni più alte di FSH hanno più probabilità di avere ovociti maturi nella scimmia hanno dimostrato che se tu induci il trigger con l'FSH a alte dose ottieni l'ovulazione senza LH solo FSH e addirittura c'è un case report di una paziente che non so come ha fatto ma ha sbagliato a fare il trigger e si è presa 2100 unità di FSH hanno recuperato 8 ovociti maturi da 10 follicoli quindi una certa sovrapposizione che sfugge alle nostre conoscenze c'è ma sempre ritornando al trigger che possibilità possiamo immaginare allora l'HCG è noto fa parte del nostro bagaglio culturale ormai è il gold standard però pian piano in questi ultimi anni si sfumano nuove possibilità c'è stato il tentativo col solo LH che è stato un po' abbandonato perché ci vogliono tantissime unità per consentire questo tipo di trigger l'LH più l'FSH l'HCG più l'FSH poi il generale agonista di cui ha parlato prima Enrico perché facilita appunto il doppio picco fisiologico che abbiamo visto prima l'Achispeptina di cui si sente parlare anzi ho un po' il dubbio che dietro questo interesse sul trigger enfatizzato in recente ci sia un po' la spinta di qualcuno che vuole pubblicitare l'Achispeptina non ne parlo perché si sa che l'Achispeptina funziona l'Achispeptina è prodotta da un'area dell'ipotalmo e va direttamente sui neuroni generacagonisti generacascernenti funziona consente l'ovulazione ma non ci sono studi comparativi noi non la consideriamo finché non ci dimostreranno che è superiore all'HCG o che è uguale all'HCG ma ha altri vantaggi tipo costare meno cosa un po' improbabile l'HCG è generacagonista invece l'insieme delle due cose quello di cui parlo oggi che viene appunto chiamato dual trigger perché quest'idea? cioè perché pensare di mettere insieme tutte e due? ci sono due motivi da un lato l'idea di associare cioè di sfruttare l'effetto similfilosiologico del generacagonista ai benefici che ha invece l'HCG sulla supplementazione della fase luteale quindi dire da un lato gli do l'HCG che già comincio a supplementare che mi servirà per dopo per la gravidanza soprattutto e in più ci do il generacagonista ma anche quello di poter migliorare il recupero noi sappiamo che il trigger con il generacagonista o il trigger con l'HCG danno stesso numero di ovociti ma magari c'è qualche paziente che trarrebbe beneficio da uno o magari dall'altro e quindi magari a fare tutte e due potremmo anche avere un beneficio e questo diciamo che è stato uno dei punti trainanti di questo approccio come ho detto non parlerò degli altri approcci parlerò soprattutto di questo perché questo davvero comincia a avere delle evidenze importanti come enfatizzato indirettamente già dalle linee guida dell'Escher infatti abbiamo una meta-analisi della 2021 una meta-analisi che aveva come outcome primario gli ovociti recuperati cioè il dual trigger dare contemporaneamente l'HCG e l'agonista può aumentare gli ovociti questo è il risultato della meta-analisi più 1,6 peraltro questa meta-analisi se andate a vedere il nome vedete che 4 degli 8 lavori non erano stati pubblicati quando hanno fatto le linee guida dell'Escher perché sono tutte cose recentissime le linee guida dell'Escher si basa su una review sistematica del 2017 che non includeva questi 4 studi l'eterogeneità che è un altro aspetto c'è non è tantissima ma c'è e quindi è chiaro che qualche dubbio ancora ancora lo possiamo avere in realtà questa meta-analisi ha questo outcome primario ma va a vedere anche altri outcome il primo è quello che dicevo gli ovociti più 1,6 il secondo sono gli ovociti maturi qua c'è uno studio che non lo riporta in media più 1 statisticamente significative ovociti fecondati 4 studi purtroppo più 0,8 embrioni di buona qualità niente ma sono 4 studi e la gravidanza? allora la gravidanza in realtà addirittura lo trovate nel supplementary material figura 6 perché giustamente loro hanno fatto sapete che adesso quando si fanno le review sistematiche non puoi prima guardare risultati e decidere su cosa puntare loro hanno fatto la review sistematica per gli ovociti perché solo a quello pensavano che si poteva arrivare alla luce del numero di studi che abbiamo che sono ancora troppo pochi però c'è se andate a grattare trovate questa questa metanalisi chiaramente è la clinical pregnancy rate non è la cumulative che ovviamente invece è quello che vorremmo perché la speranza magari è anche di avere embrioni in più magari che danno la gravidanza sul ciclo congelato o che danno un secondo figlio tre anni dopo quindi è chiaro che questo risultato non piace però è secondo me interessante guardarlo guardate odds ratio 1.3 non significativo l'intervallo di confidenza varia tra 0,9 1 e 8 però è chiaro che se si confermasse con un paio di studi tosti un 1.3 sarebbe un risultato straordinario cioè un aumento del 30% probabilità di successo vuol dire che se è una popolazione da 30% passa a 39% se è del 20% passa al 26% sarebbe davvero sensazionale secondo me questi risultati che vanno intesi come primi inari assolutamente ci spingono ad andare avanti ho parlato in generale però è chiaro che la prima idea è che questo approccio potesse essere utile per pazienti particolari le poor responder oppure quelle che hanno avuto un recupero insoddisfacente il ciclo precedente infatti i primi due studi sono andati proprio a vedere questa popolazione cioè pazienti che avevano recuperato male non presento questi studi perché per esempio i due che sono andati a vedere il recupero insufficiente hanno preso dei pazienti in uno studio 27 nell'altro 12 al ciclo dopo hanno fatto dual trigger hanno recuperato più velociti hanno avuto qualche gravidanza che ovviamente al ciclo prima non avevano perché non potevano averlo per inclusione dei studi quindi sono veramente studi un po' fumosi ma che comunque in termini proof of concept vanno bene sui poor ci sono dei studi comparativi ma non c'erano studi randomizzati per cui io penso che una cosa come questa dobbiamo studiare con i studi randomizzati io capisco che l'evidence based abbia rotto le scatole un po' tanti però questa è una cosa così semplice che non possiamo non possiamo accettare sconti e fare qualcos'altro tuttavia al pelo perché credo che sia stato proprio fresco fresco ho trovato uno studio randomizzato sulle poor studio non ottimale soltanto 80 pazienti per gruppo non ottimale non erano in cieco i medici per cui tu magari cerchi di aspirare di più i follicoli se sai che questo ha fatto il dual trigger però i risultati devo dire se si confermeranno in studi più massicci sono davvero importanti aumento del numero di ovociti aumento del numero di ovociti in metafasi 2 aumento del numero di embrioni e aumento della gravidanza clinica tenete conto che qua non c'è bisogno di accumulative perché sono poor praticamente hanno trasferito quasi tutti gli embrioni che avevano quindi questo di fatto in questo caso la gravidanza clinica è quasi un accumulative costi allora qua si sta parlando di complicare un trattamento di dare un altro farmaco allora da un punto di vista pratico per noi italiani è un farmaco non mutuabile per cui la paziente deve pagarlo è off label e per questo non c'è neanche nelle confezioni giuste perché le confezioni adesso magari ho dimenticato qualcosa ma di quello che ho cercato io ho visto che c'è la confezione a 7 o quella da 14 fiale te ne servono 2 anche su questo tenete conto che è talmente sperimentale che io faccio 0-2 ma c'è chi fa 0-1 c'è chi fa 0-4 non c'è un'uniformità su qual è la dose di agonista da dare e i costi variano da 45-60 per 7 fiale a 120 per 14 fiale quindi alti ma relativamente perché se questo ci permettesse di aumentare lo stress e gravidanza del 30% va benissimo fantastico cioè con solo allora la confezione da 7 immagine che ti dura per 3 tentativi quindi siamo più o meno a 15-20 euro con 15-20 euro aumento del 30% probabilità di successo sarebbe davvero una grande innovazione conclusione ma io penso che il dual trigger abbia un razionale biologico complica la procedura aumenta i costi non ci sono ad oggi sufficienti evidenze per raccomandarne l'uso ma work in progress sono andato su clinicaltrial.gov ci sono vari studi in corso quindi speriamo che nel giro di 1-2 anni potremmo avere gli studi che vogliamo in questo momento secondo me c'è uno spazio per uso ad persona quindi su pazienti particolari magari che hanno risposto meno bene oppure qualcuno di noi che è particolarmente entusiasta di questo approccio e che decide un po' di rischiare anche se le evidenze non ci sono per questo non lo vedete ma riporto due articoli sapete che in quest'anno di assenza per il covid di assenza di congressi c'è anche chi ne ha visto grossi vantaggi tenete conto che un congresso medio internazionale causa 10.000 tonnellate di ossido di carbonio abbiamo ridotto anche l'inquinamento non vedendoci però è anche vero che i congressi a volte diventano un po' cioè ci danno delle idee ma è difficile cambiare la pratica clinica perché ho sentito un'idea per cui vi ho messo due articoli secondo me più importanti da leggere il primo è di Abara il suo endocrine review che è una delle massime riviste endocrinologiche se leggete quella ci mettete qualche ora ma sapete tutto sul trigger proprio e la seconda è la review sistematica e metanalisi di Zanga che è stato il centro della mia presentazione vi ringrazio per l'ascolto grazie mille Dado sia per la tua precisione che puntualità gli speaker sono stati perfetti abbiamo 18 minuti 20 minuti di discussione questa è una sessione bellissima eccezionale io e Mauro chiederemo a chiunque faccia domande di essere molto brevi nella domanda non abbiamo bisogno di altri speech e altrettanto brevi nelle risposte perché ci sono sicuramente tanti punti da toccare io quindi a questo punto invito il primo speaker vedo la prima domanda Alberto prego Alberto allora una domanda assomigliana non ho sentito la differenza tra double trigger o dual trigger è stato un caso e poi sul timing del trigger se farli contemporaneamente perché i dati e la letteratura o farli in maniera differita e se il double trigger ad oggi trova solo indicazione nei bassi livelli di LH all'inizio o il giorno del trigger i lavori di Bruxelles ci danno solo questa forte forza indicazione quando faccio il trigger con l'agonista grazie hai sentito giusto ho parlato solo di dual trigger non di double trigger non l'ho nominato perché non faceva parte della relazione ma dall'elenco che ti ho detto e se leggete questa review su di Abba vedrete che c'è tutto un mondo di discussione compreso questo se io devo fare prima il generale agonista e dopo l'HCG c'è una discussione in giro adesso mi sono concentrato soltanto sul dual trigger che vuol dire tutti e due insieme e prelievo velocitario a 34 36 quindi il razionale del dual trigger sarebbe di aumentare di avere un picco dell'FSH secondo me il razionale è che qualche paziente che non funziona uno perché teoricamente sono uguali dagli studi però tu hai iniziato la tua relazione sottolineando un ruolo del picco dell'FSH quindi sarebbe un po' questo razionale per avere questo miglioramento sul numero insomma ormai nelle poor responder sei molto ottimista per le poor responder che possiamo aumentare del 38% però razionale quindi lì però diventa importante allora il tempo di somministrazione se prima l'uno o prima l'altro allora in natura salgono insieme è vero che se guardi la cosa la mia spiegazione biologica che dice che aumenta il recettore dell'LH vabbè voglio fare un pochino prima altre domande faccio un piccolo commento devo dire che ero un po' preoccupato e invece poi il problema si è risolto perché mi immaginavo di dover fare qualcosa tipo Marco Antonio nel funerale di Giulio Cesare quando dice che Filippo ha sepolto la mild stimulation Filippo è uomo d'onore quindi dobbiamo crederli poi alla fine dice il contrario ecco invece qualche cos'altro è emerso e ne sono felice quello che la Nargund sottolinea nella sua insistenza sulla mild è che secondo lei secondo loro secondo chi fa la mild c'è un minor carico un minor burden delle pazienti c'è un minor costo e c'è anche però dimostrato da almeno due lavori una minore incidenza di complicanze per i natali e anche di ipertensione nelle pazienti nel poco randomizzato controllato che è stato fatto tu concordi su questo? Allora innanzitutto minor burden per le pazienti dipende cioè siccome non è specificata infatti nelle conclusioni della quella metanalisi c'era scritta che deve essere un attimo standardizzata che cos'è la mild perché Eichmann nel 2005 nel 2006 proponeva la mild iniziando la stimolazione il quinto giorno addirittura il settimo giorno del ciclo e allora lì riduci il burden perché riduci il numero delle iniezioni ma la mild fare la mild iniziando il secondo giorno il terzo giorno con 150 oppure 225 oppure 100 non cambia significativamente hai e infatti si vede nella metanalisi hai una riduzione del costo per quanto riguarda i farmaci quello senz'altro per quanto riguarda il resto io credo che debba è un approccio filosofico Enrico ha fatto vedere lo studio nelle pur responder però non ha fatto vedere che quando tu fai 150 c'è il 37% di pazienti che viene cancellato perché è una quantità di uccidi inferiore c'hai una differenza statisticamente significativa nel numero di uccidi che recuperi e se tu non consideri perché il punto è che tutto questo si basa sul fatto che siccome in Olanda il sistema sanitario permette 6 trattamenti gratuiti senza nessun tipo di stop se tu consideri come cumulativo fare 6 pick up io non lo considero come cumulativo perché se alla paziente gli dico io ti faccio avere le stesse gravidanze facendo 6 pick up o ti faccio avere la stessa gravidanza con un pick up ma mi vanno a fare il culo se gli dico faccio 6 pick up quindi è un discorso di approccio anche da un punto di vista organizzativo Enrico vuole aggiungere qualcosa? un discorso filosofico se io chiedo a quanti di voi dopo aver letto l'optimist che è il trial più grosso pubblicato nel nostro settore avete cambiato strategia? alzate la mano due noi l'avevamo cambiata prima no tre tre e la domanda è probabilmente perché come dice Filippo sicuramente devi cambiare counseling devi cambiare approccio devi spiegare che si potrebbe trovare di fronte a dover ripetere un ciclo però come dicevamo è filosofia diciamo che c'è poca idea nel a mio parere nel riconoscerlo come un lavoro assolutamente ben fatto con un sample size assolutamente valido che andrebbe smentito se vogliamo no scusa non è che voglio fare la lotta che tu desideravi Mauro però purtroppo mancano degli studi ce lo diciamo sempre ci sono più meta-analisi a volte che studi prospetti sono randomizzati con pochissime ed è difficilissimo farlo quindi purtroppo però dobbiamo anche un po' basarci su anni di attività clinica se no in gruppi selezionatissimi di pazienti in una struttura privata come la nostra dove le gonadotropine sono a carico dello Stato quindi insomma a volte uno dice insomma il costo del gonadotropine però c'è noi da anni facciamo una mild stimulation con un pick up e mezzo per paziente abbiamo 70% di live birth rate non riusciamo a pubblicarlo questo lavoro perché non ci crede nessuno perché non è prospettico randomizzato perché non riusciamo a farlo però è così ed è riproducibile in 10 anni quindi e non c'è uno studio prospettico randomizzato tra convenzionale con l'ottenimento di 5 10 ovociti nel costo nel tempo alla gravidanza eccetera insomma non esiste quindi è filosofica non lo so se è solo filosofica legata alla politica eccetera secondo me possono essere due scelte come dice l'Eschel ancora ugualmente non so probabilmente scusate poi il numero di embrioni che abbiamo congelati nelle banche l'hai fatto vedere tu sarà un problema prima o poi in Italia però insomma secondo me dire alla paziente sempre che l'ottimale per elevare la norma rispondere che l'ottimale per elevare 10-15 ovociti non mi sembra che sia ancora proprio basato su un'evidenza così importante in selezionatissimi gruppi di patenti ma anche da un punto di vista di costi costa più fare due pick up o costa un e mezzo con pochissimi congelamenti e ci rimangono pochissimi embrioni dobbiamo farli conti però perché io non li ho visti tu l'hai fatti un pochettino a un certo punto però allora se entra nella filosofia io non sono non voglio assolutamente sostenere che siano migliori però ecco scartarla a priori tanto che adesso c'è una nuova ripresa c'è un nuovo interesse quindi scartarla proprio considerarli a priori dei trattamenti che fan sì che riduciamo la possibilità di gravidanza comunativa più applicata per le pazienti perché questo è il messaggio che sta passando adesso a livello internazionale a volte a me sembra di fare quasi una cosa scorretta quanto propongo poi la nostra è quell'omifene più bassissimo dosaggio di con adotropina va sicuro che non c'è rischi di aumento di patologie nei problemi di fase luteale insomma il clomifene nella PMA non crea problemi secondo me ormai abbiamo un certo numero di data io sono a sostegno da Massimo Nezio perché in questo momento sono state un po' troppo criticate secondo me ultimamente c'è una ripresa la mia è solo un commento così non è filosofia che non c'è grazie vorrei tornare un attimino sul concetto di filosofia perché se parliamo di Gheta immagino quello che l'abbiate vista in televisione quando fa gli show con i giornalisti dove ovviamente parla di qualità della vita in un ciclo di frequentazione assistita se sei poco stimolato se sei molto stimolata quindi diciamo che questo può andar bene ognuno li potete quello che vuole però è un concetto filosofico se parliamo di filosofia parliamo anche dello studio degli irlandesi perché in realtà anche loro quando ti fanno l'accumulativa non te la fanno su tutti gli embrioni che hanno a disposizione ma te la fanno se riescono quello che riescono a trasferire in 12 mesi che è lo stesso problema che avevano avuto quando hanno fatto lo studio sulla PGS una volta dove ovviamente loro mettono quel periodo di tempo e quindi è evidente che in un periodo di tempo base tu non hai la possibilità di utilizzare tutti gli embrioni che hai a disposizione e quindi ti freghi una parte di possibilità io penso che nel momento in cui si deve in qualche modo ragionare su che cosa costa di più perché ne passiamo a un problema di costo ora se pagano i pazienti bene possono scegliere di fare più pick up il pick up costa di più di un transfer non c'è dubbio e nel pubblico certamente costa di più perché alle ritribuzioni che ci sono in questo momento nel convenzionato ma il pubblico è uguale sono molto più alte quelle di rifare tutto un ciclo da capo piuttosto che utilizzare embrioni congelati poi la filosofia diciamo così dell'avere troppi embrioni questo è un altro discorso noi abbiamo il problema che non li possiamo buttare via gli altri non hanno questo problema e rimane un problema solo etico però questo bisogna che lo prendiamo in considerazione perché altrimenti diciamo che fare i pick up costa poco allora se costa poco fare un pick up per 7 ovociti spiegatemi perché costa molto farlo per 15 grazie Paolo è vero che ci mancano i grandi studi i grandi studi randomizzati però i big data cominciano a dirci delle cose abbiamo recentemente pubblicato due lavori su tutte le strutture pubbliche e convenzionate lombarde 2017 e 2018 il costo ovvero per il sistema pubblico si riduce in maniera significativa all'aumento del tasso di congelamento ovvero compreso il costo dei farmaci la percentuale cumulativa nei due anni è la metà per le strutture che congelano intendendo l'accumulative live rate nei 12 mesi con delle differenze che sono impressionanti stiamo parlando dei dati veri di tutte le strutture lombarde su due anni non chi fa di più ci sono centri che assolutamente underperformano che fanno piangere ma se lo vediamo su un numero impressionante di cicli sto parlando di big data se non congeli fai un danno alla paziente e al sistema pubblico punto nico con la curci poniamoci il problema degli embrioni congelati no questo è un problema che nel pubblico è fondamentale perché nel privato potete gestirlo come volete anche 300 anni nel pubblico no perché se vado in pensione non posso lasciare al nuovo ordinario tutti gli embrioni crioconservati che che tengo nella banca io ho la necessità di crioconservare nell'ottica di trasferire per cui dobbiamo anche cercare di modulare le stimolazioni in maniera tale che c'è un numero di embrioni che siano trasferibili alla donna perché se io ho oggi donna di 44 anni con 6 con 6 embrioni non posso immaginare che lei mi trasferirà il sesto embrione se siamo stati bravi a 52 anni per cui dobbiamo modulare questo allora secondo me siamo d'accordo su tutto però poniamoci il problema di che cosa facciamo degli embrioni crioconservati soprattutto nel pubblico come ci dobbiamo gestire la crioconservazione a prescindere dall'aspetto economico che non che è tutto un discorso da affrontare ma un discorso di tipo etico nei confronti del direttore generale che l'anno prossimo se ne va e il nuovo direttore generale mi potrebbe dire oh ma io non mi voglio dare tutti quei sembrioni crioconservati che io fra due anni vado fuori ruolo e fra due anni non so bene quello che mi sostituisce perché dovrebbe ereditare gli embrioni miei grazie Nico io volevo aggiungere molto brevemente che abbiamo parlato di costi di tutto di medicina filosofia ci siamo scordati la paziente cioè spesso noi la personalizzazione della terapia la facciamo non sulla base dell'optimist trial noi la facciamo sulla base della paziente io quello che provo a insegnare ai miei collaboratori ai miei colleghi più giovani è questo ascoltate la paziente la paziente ti dirà cosa vuole ci sarà la paziente anche in base al suo vissuto chiaramente ci sarà la paziente che vi assicuro opterà per il fresh transfer perché vuole chiudere il ciclo subito c'è quella invece che capisce e che comprende e giustifica benissimo invece tutte le eventuali tecniche basate sulla segmentazione del ciclo la paziente da dove viene abita vicino la clinica o viene dalla Spromonte o dall'isola Vischia per me per queste pazienti è importante i miei collaboratori lo sanno io gli dico sempre vedi la paziente da dove arriva dove fai monitoraggi chi la può seguire dopo il pick up dopo il transfer oggi noi abbiamo arricchito tantissimo l'IVF con nuove strategie protocollo con l'antagonista l'agonista le gonadotropine i triggering la PGTA la segmentazione del ciclo la vitrificazione usatele tutte queste strategie questa alla fine è la personalizzazione dipingere il protocollo giusto e la strategia giusta per ciascuna paziente o almeno questo è il mio credo abbiamo raggiunto l'ora limite quindi andiamo al coffee break e ci troviamo Massimo fra un quarto d'ora giusto? bene penso che sia il momento di iniziare la sessione successiva ci riaccomodiamo dopo il caffè allora iniziamo questa sessione sull'endometriosi che sarà sicuramente una sessione interessante come quella che l'ha preceduta e iniziamo con la prima relazione l'endometriosi e qualità ocitaria della dottoressa dell'Aquila ok buon pomeriggio a tutti l'endometriosi è una condizione infiammatoria cronica estrogenodipendente una malattia causata da migrazioni di cellule endometriali fuori dalla cavità uterina che vanno a formare degli impianti e vanno a colonizzare i tessuti distali tra cui tube di falloppio ovaio e peritoneo l'endometriosi è classificata in stadio 1 2 3 4 seconda di numero posizione e dimensioni degli impianti endometriosici colpisce circa il 10% delle donne in età riproduttiva e circa il 30 50% delle donne con endometriosi risulta infertile durante questa presentazione andremo a vedere come l'endometriosi impatta sulla qualità ovocitaria soffermandoci su tre grandi argomenti morfologia degli ovociti competenza ovocitaria e outcome di laboratorio in letteratura è stato osservato che gli ovociti endometriosici presentano anomalie intracitoplasmatiche come citoplasma scuro granulità diffuse o aggregate nel centro inclusioni refractil badis vacuoli e anomalie extracitoplasmatiche forme regolari aumentato spazio perivitellino primo globulo polare frammentato zona pellucida spessa o sottile in particolare è stato osservato che tra le anomalie intracitoplasmatiche il citoplasma scuro e il refractil badis sono maggiormente associati all'endometriosi di stadio 3 e di stadio 4 invece in questo studio del 2014 è stato osservato che gli ovociti di pazienti con endometriosi presentano prevalentemente citoplasma scuro e granulità diffuse seppur queste due anomalie non correlano con un outcome di tipo clinico al contrario questo gruppo di Barcellona ha invece evidenziato anomalie extracitoplasmatiche ha aumentato spazio perivitellino zona pellucida alterata associandole ad un ridotto tasso di impianto nelle pazienti oggetto di studio e negli ultimi anni il fuso migliotico è stato indicato come marker di qualità ovocitaria dal momento che vi è una correlazione negativa tra alterazione del fuso migliotico e tasso di fecondazione un limite dello studio sul fuso migliotico nelle pazienti con endometriosi è dovuto alla scarsa reperibilità di ovociti in metafase 2 da donare alla ricerca pertanto la maggior parte di questi studi si basano su ovociti immaturi che vengono fatti maturare in vitro in questo primo studio è possibile osservare una difficoltà nel gruppo con endometriosi degli ovociti di maturare in vitro rispetto al gruppo di controllo e quando gli ovociti raggiungono lo stadio di metafase 2 la percentuale di anomalie del fuso migliotico risulta più alto rispetto al gruppo di controllo in particolare in G osserviamo un ovocita del gruppo di controllo che è stato fatto maturare in vitro e in blu è stata colorata la cromatina vediamo come la cromatina si dispone in maniera ben organizzata lungo la piastra metafasica nell'immagine in H invece abbiamo un ovocita endometriosico maturato in vitro e come si può vedere la cromatina è del tutto disorganizzata al contrario in uno studio precedente del 2009 non sono state osservate differenze statisticamente significative nel tasso di maturazione in vitro né tanto meno nelle anomalie meiotiche tra gruppo di endometriosi e gruppo di controllo ovviamente questi studi non rappresentano la reale condizione che tutti i giorni affrontiamo in laboratorio in quanto sappiamo bene che gli ovociti utili in un percorso di fecondazione assistita sono ovociti già in metafase 2 uno dei pochi studi presenti in letteratura va a osservare la maturazione nucleare la visualizzazione del fuso meiotico e la sua localizzazione rispetto al globulo polare tra un gruppo di controllo tra cui fattore tubarico e fattore di infertilità maschile e gruppo di endometriosi qui non vengono osservate differenze statisticamente significative il corretto sviluppo ovocitario è garantito anche da una corretta funzione mitocondriale a questo punto infatti è stata analizzata l'ultrastruttura degli ovociti con endometriosi in particolare analizzando i mitocondri questo studio prende in considerazione 50 ovociti in metafase 2 di un gruppo di controllo e li confronta con 50 ovociti in metafase 2 prevenenti da pazienti con endometriosi di tipo mild in questa prima immagine vengono confrontate le cellule del cumulo e si possono osservare i mitocondri le strutture sono praticamente uguali e non ci sono non sono state riscontrate differenze così come guardando la zona pellucida lo spazio perivitellino e la membrana plasmatica anche qui non si osservano differenze se però guardiamo il citoplasma degli ovociti con endometriosi è possibile osservare un'aumentata percentuale di mitocondri anomali quindi abbiamo questi grossi vapore rigonfi oppure sfocati e anche osservando il numero di mitocondri questo risulta notevolmente più basso nel citoplasma del gruppo oggetto di studio rispetto al gruppo di controllo questo dato poi è confermato anche da un'analisi di tipo quantitativo sul numero di copie di DNA mitocondriale che effettivamente è più basso rispetto al gruppo di controllo in uno studio pur recente va ad analizzare invece i mitocondri nelle cellule della granulosa di pazienti endometriosiche con endometriosi ovarica unilaterale o bilaterale anche qua il numero di mitocondri è più basso aumenta la percentuale di mitocondri anomali e i livelli di espressione di attività mitocondriale risultano più bassi è stata osservata anche un'inversa proporzionalità tra il DNA mitocondriale nelle cellule della granulosa e il DNA mitocondriale libero nel fluido follicolare di fatti l'analisi delle cellule della granulosa è un modo indiretto per andare a studiare la qualità degli ovociti la funzione delle cellule follicolari quindi sia cellule del cumulo che cellule della granulosa è quello proprio di instaurare un corretto dialogo tra ovocita antrofollicolare e tutto l'ambiente circostante la maggior parte degli studi presenti in letteratura vanno ad analizzare il profilo di espressione genico di queste cellule ed è stato osservato che molti sono i geni differenzialmente espressi e sono coinvolti in pathway come espansione del cumulo signaling delle chemochine fosforilazione ossidativa metabolismo senescenza stress del retrico l'endropalasmatico biosintosi steridea e ancora funzione mitocondriale tutte queste pathway alterate hanno un impatto su quella che è la competenza dell'ovocita e sulla sua corretta acquisizione in questo studio diciamo svolto dal gruppo Nove Bontobaby in collaborazione con l'università delle Marche è stata analizzata la la struttura delle cellule della granulosa in pazienti con endometriosi unilaterale ovarica e confrontata con quella di un gruppo di controllo allora è stato osservato che le cellule della granulosa in pazienti con endometriosi presenta una mentata perossidazione lipidica un'attivazione dello stress ossidativo e un'alterazione del metabolismo dei carboidrati ma la cosa interessante è che queste variazioni delle diciamo di funzione della cellula della granulosa sono osservabili non solo della granulosa proveniente dall'ovaio affetto ma anche dall'ovaio sano ad indicare che l'endometriosi agisce non solo a livello locale ma anche a livello sistemico questo studio è uno studio molto recente fatto dal gruppo IBI in cui sono stati hanno stato analizzato il trascrittoma di 16 ovociti con endometriosi sia bilaterale che unilaterale è confrontato con il trascrittoma di 16 ovociti provenienti da donatrici sane sono più di 500 i geni differenzialmente espressi e nell'immagine osserviamo proprio la heat map dei 50 geni maggiormente alterati i pathway coinvolti sono quelli del metabolismo steroideo la risposta allo stress ossidativo regolazione della crescita cellulare funzione mitocondriale e sviluppo embrionale a questo punto analizziamo come la competenza ovicitaria si riflette in quelli che sono gli outcome di laboratorio letteratura possiamo trovare quattro meta analisi che mettono in relazione i sottotipi di endometriosi con il numero di ovociti recuperati osservando diciamo il dato statisticamente significativo diciamo che la letteratura si esprime a favore di un'associazione tra endometriosi e minor recupero di ovociti se però passiamo al numero di ovociti maturi prelevati abbiamo solo tre meta analisi presenti in letteratura e qui l'evidenza non è così corposa allo stesso modo se andiamo ad associare le endometriosi al numero di ovociti fecondati abbiamo ancora tre meta analisi e anche qui il dato non è evidente anzi se ci soffermiamo sull'ultima meta analisi il rischio di una peggiore fecondazione sembrerebbe più alto negli ovociti endometriosi provenienti dallo stadio 1 e stadio 2 sappiamo ad esempio in letteratura riprendendo appunto lo studio fatto sul fosso meiotico che ci sono delle differenze statisticamente significative negli outcome di laboratorio tra endometriosi di tipo 1 e di tipo 2 rispetto all'endometriosi di tipo 3 e di tipo 4 a suggerire che molto probabilmente la competenza ovocitaria cambia a seconda anche dello stadio della malattia e se ci soffermiamo sugli outcome che differenziano rispetto al gruppo di controllo abbiamo che il numero di ovociti fecondati e il numero di imbroni prodotti differisce statisticamente unicamente però con l'endometriosi di tipo 3 e di tipo 4 a questo punto sono andata ad vedere se in letteratura ci fosse un'associazione anche tra endometriosi e particolari tecniche di inseminazione cioè la conventional IVF o la ICSI non sono tantissimi gli studi presenti che confrontano le due tecniche tra questi troviamo uno studio fatto dal gruppo PMA dell'ospedale Sant'Anna di Torino prende pazienti di età compresa tra i 18 e 43 anni con endometriosi pazienti che sono stati operati e pazienti che non sono stati operati e vengono esclusi i cicli con donazione di gameti a seconda della qualità del liquido seminale al giorno del prelevo ovocitario gli ovociti venivano inseminati con una conventional IVF in caso di campione normospermico oppure si utilizzava la ICSI e poi sono stati analizzati gli outcome principali qui non osservano differenze statisticamente significative in questo studio invece ogni singola tecnica è stata confrontata tra gruppo di endometriosi e gruppo di controllo per quanto riguarda la ICSI il tasso di fecondazione non risulta differente tra i due gruppi se però andiamo a osservare la percentuale di ovociti in metafase 2 risulta più basso nel gruppo di endometriosi rispetto al gruppo di controllo così come se guardiamo la morfologia di questi ovociti maturi recuperati che risulta più scarsa nel gruppo di endometriosi rispetto al gruppo di controllo passando alla FIVET invece qui il tasso di fecondazione è più basso nel gruppo oggetto di studio rispetto al gruppo di controllo se poi ci soffermiamo sul gruppo di endometriosi e lo sottoclassifichiamo nei quattro stadi si osserva che il numero il tasso di fecondazione dello stadio 1 e dello stadio 2 è statisticamente differente dallo stadio 3 e lo stadio 4 a favore quindi di una maggiore fecondazione nei casi in cui l'endometriosi si presenta nello stadio 1 e nello stadio 2 l'unico studio presente in letteratura che confronto ovociti fratelli ovvero provenienti da un unico recupero ovocitario è appunto questo studio qui però parliamo di 35 pazienti di stadio 3 e stadio 4 endometriosico di età inferiore ai 40 anni con un recupero maggiore o uguale di 6 ovociti e sono tutti campioni seminali nella norma allora in questo caso abbiamo un tasso di fecondazione che differisce nella conventional IVF rispetto alla ICSI a discapito della conventional IVF se si guarda invece la percentuale di fecondati anomali e la percentuale di cicli di fallimento di fecondazione questo è più alto nella conventional IVF rispetto alla ICSI analizzando poi lo sviluppo embrionale il numero medio di embrioni in seconda giornata per ciclo e il numero medio di embrioni cronconservati ovviamente più basso nella FIBET rispetto alla ICSI ho guardato un po' i dati del nostro laboratorio in particolare ho considerato la tecnica conventional IVF tra endometriosi e fattore tubalico così come mi aspetto da quello letto da ciò che ho letto in letteratura il numero di ovociti recuperati è più basso nel gruppo di endometriosi rispetto al fattore tubalico se però guardo tasso di fecondazione tasso di mancata fecondazione numero medio di fecondazione anomale questi non differenziano statisticamente tra i due gruppi guardando poi lo sviluppo degli embrioni si ha una minor percentuale di embrioni maggiore o uguale a 8 cellule in terza giornata ma se guardiamo al nostro vero obiettivo ovvero quello di dare una gravidanza e un bambino nato i principali outcome di tipo clinico non differiscono in maniera statisticamente significativa per concludere quindi possiamo dire che l'endometriosi sicuramente impatta sulla morfologia degli ovociti alterandola che sicuramente molti patoi coinvolti nella competenza ovocitaria sono alterati e che in letteratura c'è una tendenza ad associare l'endometriosi a un minor recupero ovocitario mentre per quanto riguarda gli altri outcome di laboratorio ad oggi non c'è un'evidenza consistente in letteratura grazie per l'attenzione grazie grazie si sente e ringrazio l'organizzazione per questo invito per essere finalmente ancora tutti insieme un po' meno per l'argomento che è un po' la palude del nostro mestiere ma pazienza se noi consideriamo che il 35-50% dovrebbe essere secondo lo studio di Lancet affetta da un problema di endometriosi quando viene sottoposta ad IVF i dati del registro del 2018 indicherebbero che ragionevolmente noi andiamo a sottoriportare l'incidenza dell'endometriosi delle nostre pazienti ma perché questo succede? perché il problema è fondamentalmente che in un'incidenza estremamente alta l'endometriosi è uno dei cofattori che si associano ad altre condizioni a fattore tubarico a una diminuzione della riserva ovarica a fattori rini a fattori maschili cosa che rende la metodologia d'indagine degli studi epidemiologici eterogenea in modo da renderla difficilmente comprensibile quindi quali sono i punti? il numero di uova incidente dal percentuale di fertilizzazione l'impianto gli aborti del primo trimestre è nati vivi e come potremo o si è pensato di migliorare la chirurgia i trattamenti medici nuove terapie che stanno emergendo non sappiamo ma perché l'endometriosi dovrebbe avere un impatto sugli outcome perché ci sono altre condizioni c'è una relazione con lo stadio della malattia c'è una condizione legata agli interventi chirurgici precedenti e alle terapie mediche fatte se noi prendiamo questo studio in cui si cerca di separare le diagnosi endometriosi con inspiegata il fattore tubarico e l'endometriosi verso tutte le altre diagnosi il numero di uova in tutte queste condizioni appare significativamente più basso e quindi che cosa c'è un problema infiammatorio un'alterazione della fredogenesi un'alterazione dello sviluppo delle uova ma se parliamo di numero di ovociti è difficile se noi parliamo dell'adenomiosi apparentemente pochi studi sono andati a vedere questa condizione e apparentemente non c'è differenza ma se noi andiamo a vedere sull'endometriosi non c'è divisione reale sullo stadio della malattia anche se prendendo il campione in assoluto c'è una riduzione statisticamente significativa del numero delle uova ma poi non c'è distinzione fra le endometriosi trattate e quelle non trattate gli studi sono veramente pochi e quindi se noi andiamo a suddividere per lo stadio abbiamo condizioni molto diverse e se andiamo a ulteriormente suddividere a prescindere dallo stadio sulla presenza o l'assenza di un endometrione e passiamo al secondo punto c'è una differenza nella percentuale di fertilizzazione apparentemente sì c'è una differenza nella percentuale di fertilizzazione anche negli stadi più lievi della malattia mentre sembrerebbe da alcuni studi che questa differenza non sia così importante nelle stadi più severi della patologia pochi studi differenziano c'è un'eterogenità assoluta anche se la riduzione come vi ho fatto vedere sembrerebbe essere presente anche negli stadi lievi ma che cosa succede apparentemente non sembrerebbe se prendiamo il campione assoluto della metanalisi esserci una differenza significativa nella percentuale di fertilizzazione ma che cosa succede che cosa che cosa in realtà possiamo andare ad aspettarci c'è un'alterata regolazione del ciclo ci sono caratteristiche delle uova di cui ci ha parlato la collega prima c'è una quindi una minore qualità delle uova quindi una minore una minore qualità degli embrioni ci sono degli outcome avversi molto complicato quello quello che sappiamo dai dati attualmente disponibili in una meta-analisi molto ampia è che c'è una riduzione generale del tasso di impianto e che c'è questa riduzione a prescindere dallo stadio della malattia è presente sia negli stadi 1 2 sia negli stadi 3 4 con una differenza dell'implantation rate negli stadi severi apparentemente del 21% che cosa influenzerebbe l'impianto l'asteroidogenesi lo stress ostidativo condizioni infiammatorie ci sono ci sono lavori in cui uno potrebbe andare a perdersi in una biblioteca di opinioni diverse su quello che sono le condizioni che potrebbero influenzare negativamente l'infiammazione dell'angiogene e l'immunosuppressione fino alla resistenza al progesterone e quindi è una condizione in cui chi è colpevole qual è l'elemento maggiore che influenza la prognosi se noi andiamo più avanti possiamo dire che che tutte queste condizioni dal difetto d'impianto all'abortività precoce all'abortività tutte vengono influenzate l'abortività sembrerebbe essere nelle pazienti con adenomiosi in particolare circa tre volte maggiore che nella popolazione non affetta e i dati sembrerebbero essere estremamente solidi nel confermare questa condizione ma se noi andiamo a parlare invece del punto più importante alla fine che è quello della nascita se noi se noi dividiamo l'endometriosi sola l'endometriosi più altre condizioni rispetto all'inspiegata al fattore tubarico e altre condizioni non sembrerebbe esserci nell'endometriosi isolata vera una condizione così diversa ma se andiamo a a vedere una metanalisi che cerca di prendere come vi dicevo con delle differenze estreme nel campione che viene preso in esame non sembrerebbe esserci nella probabilità di nascita una differenza significativa se sia la follicologenesi la ricettività la condizione della placentazione sono domande a cui ancora non credo che ci sia risposta e porto i nostri dati che abbiamo cercato su invito di Andrea di raccogliere questi sono i nostri dati dal 2010 al 2020 in cui abbiamo prima cercato di prendere in esame quali fossero i fattori predittivi antecedenti all'induzione e ovviamente abbiamo trovato che sull'analisi univariata l'età il peso allora non il fumo non lo sperma ma il fattore il fattore tubarico la ridotta di servo ovarica e l'endometriosi sono statisticamente rilevanti sulla probabilità di nascita abbiamo cercato poi di andare a vedere i nostri risultati su un outcome che finora era stato soltanto un'idea nella mia testa e quindi non semplicemente la probabilità cumulativa di nascita ma la probabilità familiare di questa coppia quanti figli riesce a portarti a casa stiamo parlando di dieci anni da questo punto di vista in cui quali sono le condizioni che influenzano questa probabilità il numero di uova il numero di embrioni trasferiti e la percentuale di fertilizzazione sono all'analisi univariata sul tasso cumulativo di nascite complessive su dieci anni i fattori apparentemente migliori se andiamo a fare quindi un'analisi multivariata dei fattori ovviamente rimane estremamente significativa all'età ma alcune altre condizioni sono fortemente indicative della prognosi nei nostri dati una diagnosi di endometriosi riduce in maniera importante quasi a pari dell'età una probabilità cumulativa per coppia di avere dei bimbi nati se la prendiamo su una Kaplan Maier in cui vediamo come ha il numero di embrioni trasferiti in rapporto all'età e alla probabilità di nascita diviso in pazienti che hanno meno di 40 anni pazienti che hanno più di 40 anni in cui ci fosse una diagnosi di endometriosi o non ci fosse questa diagnosi come cambiano le condizioni e quindi alcune condizioni all'analisi multivariata non sono più risultate così significative se l'analisi multivariata corregge per i fattori interferenti soprattutto l'età una delle condizioni che rimane fortemente negativa è la diagnosi da denomiosi devo fare un appunto ai nostri dati probabilmente nella nostra casistica le diagnosi di adenomiosi sono molto meno di quelle vere perché sono state probabilmente riportate solo quelle più severe cioè l'adenomiosi cavitata sulle altre condizioni sapete meglio di me come sia un mondo molto complicato e quindi l'endometriosi ha un impatto probabile sul numero di uova sulla percentuale di fertilizzazione sull'implantation rate sull'abortività e sulle nascite che cosa potrebbe migliorare la chirurgia i trattamenti medici le nuove strategie gli interventi per tentare di migliorare le condizioni queste sono una condizione che prende in esame tutte le strategie dal danazzolo alla chirurgia i dati sembrerebbero dare un modesto miglioramento per alcune di queste strategie ma sono dati sporchi perché non prendono in esame su quali pazienti realmente vengono fatti e quindi quello che sappiamo è che sull'endometriosi profonda l'endometriosi profonda è una condizione diversa dall'endometriosi a parità di stadio 1 2 3 4 e ha una prognosi sostanzialmente diversa la presenza di endometriomi e la chirurgia ci dà delle condizioni ci ha dato somigliana ai colleghi che da questo punto di vista è una panacea di tutti i mali chiunque ha detto il contrario dell'altro ma sulle strategie terapeutiche questa Cochrane dà una delle condizioni più frequenti cioè la possibilità che un analogo su un periodo molto lungo possa favorire la prognosi rispetto alla terapia chirurgica c'è molto poco apparentemente un periodo molto lungo di analogo non sembrerebbe migliorare la prognosi no? e quindi questa condizione il protocollo lungo apparentemente è un protocollo più efficace ma rispetto ai tre mesi analogo non sembrerebbe esserci nessun beneficio ma come vedete i numeri sono ridicoli dal punto di vista statistico e quindi lo stress ossidativo gli antiossidanti il ruolo dell'infiammazione le terapie anti-infiammatorie e antiossidanti chi più ne ha più ne metta e vorrei e vorrei andare direi a una conclusione di questa rapida carrellata siccome nella nella condizione dell'endometriosi sono presenti frequentissimamente altre copatologie infiammatorie aderenziali tubariche non ultima che molte di queste pazienti più che affette dall'endometriosi hanno direi una riduzione della riserva ovarica assoluta quindi è estremamente difficile fare counseling sembrerebbe che l'endometriosi si associa si associa a una minore probabilità di nascita rispetto a altre diagnosi e sia un fattore prognostico negativo sia sull'incidenza di aborti del primo trimestre sia sulla probabilità di nascita sembra aumentare il tempo alla nascita soprattutto nelle donne al di sotto dei 40 anni non vorrei essere noioso ma anche qui ci mancano dati puliti ci mancano studi in cui non si mischino le pere con le mele e con questo vi ringrazio grazie 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 pablo con vengo con te che l'argomento era abbastanza impegnativo concludiamo la sessione con Eleonora Porcu che ci parlerà di indicazione endometriosi indicazione per fertility preservation Eleonora un bacio e un saluto grazie grazie Andrea grazie a tutti gli amici è bellissimo finalmente rivedere le stelle con questo congresso così affollato e così stimolante Pablo ha perfettamente ragione mele con pere e difficoltà di riuscire a dare un giudizio non dico univoco perché è molto difficile in medicina ma almeno un orientamento che dica l'endometriosi e la fertilità e le possibilità di intervento di previsione di incidenza di deviazione rispetto alle tendenze naturali spontanee dice questo è possibile fare quest'altro effettivamente è estremamente difficile perché a mio avviso tutte le strategie che ha ben illustrato Pablo ipotizzate compresa quest'ultima che stava descrivendo del lungo trattamento con analoghi del genere H che emetta in qualche modo che congeli la situazione non ci dà però degli strumenti poi statistici interpretativi che dica sì effettivamente è così questa è la chiave di volta quindi io vi rispondo all'inizio alla domanda della mia relazione indicazione per la preservazione della fertilità l'endometriosi ebbene sì vi do già la risposta inizialmente a mio avviso nella mancanza di chiarezza e di punti di repere di riferimento inequivocabili che l'endometriosi con tutte le sue varianti sfaccettature ci presenta preservare la fertilità il prima possibile il più tempestivamente possibile è la strategia vincente dunque in un mondo in cui ci sono milioni di donne etichettate come endometriosiche nel mondo in Europa in Italia e in tutte le nostre regioni perché dovremmo cercare di tutelare la fertilità e di preservare la fertilità perché sì nell'endometriosi perché l'endometriosi spesso è associata all'infertilità spesso ha necessità di una chirurgia aggressiva che peggiora o addirittura enfatizza l'infertilità spesso si posticipa la gravidanza perché è una paziente che comincia ad entrare in questo lupo infernale dell'endometriosi che dà anche una risonanza con la mia didattica non sapevo di avere l'endometriosi quindi adesso che cosa mi succede anche oltre alla reale concretezza della prognosi una riduzione della riserva ovarica che sembra appunto come già diceva Pablo almeno uno dei fattori dei punti chiave abbastanza costanti e la necessità quindi spesso di ricorrere a tecniche di PMA quindi di fronte a una documentata da letteratura riduzione della riserva ovarica di fronte non soltanto al calo dei follicoli antrali ma anche dell'ormone antimulleriano quindi di tutti quanti i fattori che costituiscono poi la valutazione della riserva ovarica e di fronte quindi alla presenza di fattori che oggettivamente danno una prognosi negativa o comunque sicuramente sfavorevole guardando molto precocemente la valutazione di questi fattori e l'indice di dubbio anche solo dubbio di endometriosi a mio avviso bisogna cercare di pensare alla preservazione della fertilità e soprattutto prima dell'eventuale aggressione chirurgica che è in modo variamente naturalmente condiviso non sempre da tutti non nello stesso percentuale comunque sembra essere un fattore di peggioramento della riserva della riduzione della riserva ovarica che quindi andrebbe possibilmente evitato prima di cercare di mettere da parte un po' di questa fertilità che è così a rischio noi nel nostro istituto abbiamo guidato dal professore Serracchioli un centro robusto di endometriosi che ha da sempre in modo molto attento sposato la strategia non invasiva della gestione della endometriosi e quindi noi abbiamo diciamo una popolazione particolare associata proprio all'afflusso al centro di endometriosi del professor Serracchioli e di fatto quindi siamo abituati e settati con un atteggiamento non favorevole a una aggressione anche nei casi in cui apparentemente in molti altri centri viene consigliata la chirurgia la chirurgia PMA ha pro e contro ma a mio avviso bisognerebbe tranne in casi particolarissimi uno di questi è una paziente che ho proprio presentato al professor Serracchioli qualche mese fa e che lui ha operato perché era una condizione in cui apparentemente non sarebbe stato possibile far sviluppare nessun follicolo ma altrimenti davvero i pro e i contro a mio avviso i contro sono prevalenti proprio perché di fatto i cicli cancellati nei pazienti con endometrioma rispetto a quelle operate sono maggiori quindi secondo la nostra esperienza la tutela della fertilità andrebbe fatta subito con le alternative che conosciamo tutti crioconservazione di ovociti o di embrioni ma oramai gli ovociti sono sicuramente prevalenti di tessuto avarico se ce n'è naturalmente se è disponibile se non rischia di impoverire ulteriormente la riserva avarica della paziente e una chirurgia che quando è necessaria deve essere estremamente attenta alla conservazione della fertilità al giorno d'oggi sicuramente è importante sviluppare la ricerca e le potenzialità della nostra delle nostre strategie nei confronti della riproduzione con una primum nolli nocere bisogna cercare di non nuocere e quindi se di chirurgia si deve parlare deve essere davvero una chirurgia fatta con le mani della festa e con una estrema attenzione e il sommigliano ha fatto un bellissimo studio con questa domanda la preservazione della fertilità per tutti per nessuno per qualcuno e di fatto secondo lui la fertilità dovrebbe essere preservata in prima battuta in donne che hanno un alto rischio soprattutto ad esempio gli endometriomi bilaterali o il rischio di endometriomi di comparsa di endometriomi bilaterali io vi dirò di più a mio avviso andrebbe preservata proposta quando c'è anche un minimo segno perché associando questo all'età che come sempre è il discrimine fondamentale l'unico sul quale non c'è discussione il tempo tra la diagnosi e la possibilità di avere un bambino è veramente ristretto quindi primo segno di ipotesi di endometriosi a mio avviso dovrebbe dare prima che ci sia comunque qualunque chirurgia anche quella che sta attenta a proteggere la fertilità dovrebbe essere assolutamente già posta in atto vi vorrei andare più velocemente ecco avanti perché altrimenti non stiamo nei tempi i nostri la nostra esperienza sulla feconduzione assistita ed endometriosi ci dice che in realtà suddividendone nei vari gruppi nella nostra popolazione ci sono delle differenze di riserva ovarica soprattutto nelle casi di endometrioma nello stadio terzo della di endometriosi ed è quello sicuramente a prognosi più sfavorevole in questi non troviamo delle differenze eccezionali di fecondazione se non proprio in quella tipo in quello stadio di endometriosi e nello stesso tempo guardiamo la percentuale di gravidanza che abbiamo per comunità solita guardiamo quelle per transfer ma ci sono indicate come vedete anche per ciclo eccetera e nella endometriosi dei primi stadi quella lieve abbiamo una percentuale di gravidanza che non si discosta dai controlli senza endometriosi l'unica categoria nella quale la percentuale gravidanza è significativamente più bassa è quella dello stadio terzo con gli endometriomi dei quali tra l'altro c'è anche una maggiore percentuale di aborti abbiamo quelli sono dati generali diciamo in pazienti che hanno fatto la fecondazione assistita e che avevano incidentalmente anche endometriosi invece questi sono dati su pazienti che abbiamo preservato con i quali abbiamo fatto la crioconservazione degli ovociti proprio a scopo di preservazione della fertilità con quindi minimi segni di segni iniziali diciamo appena diagnosticati di endometriosi e in questi soggetti alla fine siamo riusciti proprio con questa strategia dell'intervento il prima possibile a recuperare un numero come vedete di dieci ovociti dieci nove quindi una quantità soddisfacente di ovociti tranne nello stadio terzo in cui sono un po' inferiori e siamo riusciti a congelare quindi a mettere da parte naturalmente gli ovociti con migliore qualità morfologica un numero di un gruzzoletto tutto sommato utile per poter ipotizzare almeno un tentativo se non due di fecondazione e poi con questi ovociti in alcuni soggetti abbiamo fatto la fecondazione in vitro ovociti crioconservati che ci hanno dato alla fine una buona percentuale di sopravvivenza tutto al di sopra del 70% ed una buona percentuale di fecondazione buona percentuale anche di embrioni di grado elevato con dei cicli di trasferimento praticamente molto soddisfacenti ed una percentuale di gravidanza per transfer che nei casi di endometriosi che era diciamo un po' più lieve migliore prognosi era addirittura superiore adesso diciamo statisticamente non diversa da quella dei controlli e soltanto leggermente inferiore ma non poi di tanto nei pazienti con endometriosi di stagio terzo quindi alla fine direi che questa strategia finisce per essere forse precoce talvolta troppo invasiva da un certo punto di vista fare subito la preservazione della fertilità però i risultati ci sono cioè si mette da parte e si sottrae agli eventuali influssi negativi qualunque essi siano non sono assolutamente ancora chiari dell'endometriosi all'insieme dei fattori di fertilità ma questo è certamente a mio avviso il consiglio e l'indicazione che possiamo dare dalla nostra esperienza abbiamo anche valutato i casi con pregressa chirurgia mentre quelli precedenti non avevano una pregressa chirurgia pregressa chirurgia ovarica sia monolaterale che bilaterale rispetto a chi non ha fatto la chirurgia e come potete vedere la chirurgia dà una riduzione della riserva avarica la pregressa chirurgia sia come conto follicolare che come valori di AMH soprattutto la chirurgia bilaterale tuttavia anche in questi soggetti è stato possibile recuperare e crioconservare un minimo di ovociti che comunque sono sempre un tesoro prezioso quindi a mio avviso il messaggio è prevenzione della fertilità soprattutto precocemente nell'adolescente nella giovane donna con endometriosi attenta valutazione di tutti i segnali diagnostici ed esecuzione tempestiva della crioconservazione degli ovociti vi ringrazio apriamo apriamo la discussione posso iniziare io perché non mi è chiaro bene una cosa nel senso che secondo me è importante uscire con le idee un attimino più chiare per riuscire a capire che tipo di counseling andare a fare alle donne con endometriosi io ho una prima relazione che mi dice che la qualità degli ovociti di endometriosi è sicuramente peggiore per cui mi imponevo il problema di fare una domanda se una terapia medica poteva migliorare la qualità di questi ovociti prima di fare una riproduzione assistita o dall'altra parte Eleonora che invece mi dice che se io li congelo ho un tasso di e poi li scongelo ho un tasso di fecondazione assolutamente comparabile con i controlli per cui Eleonora ci dice bene promuoviamo la preservazione della fertilità in donne giovani quindi vuol dire che io alla ragazza di 20 anni che ha una piccola cistina endometriosi che viene da me con dolore pelvico cronico le vado a proporre una preservazione della fertilità perché parto dal presupposto che ha buoni ovociti e che poi dopo 10-15 anni potrà andare a immaginare di fare una riproduzione assistita mi lascia un po' perplesso questo da un punto di vista teorico mi farebbe più piacere dire alla donna bene cerchete di avere una gravidanza spontanea in un'epoca un attimino più bassa poi se non ci riesci ci pensiamo piuttosto che andare a dire a tutte le donne di 20 anni facciamo preservazione della fertilità poi non ci pensare fino a 40 anni e a 40 anni utilizzi i tuoi ovociti di 20 anni questa non è una mia era una mia così una mia valutazione poi parte io sono estremizzante sempre sono arrivato però ad una conclusione di questo genere perché se io lo consiglio a donne giovani in età adolescenziale o post adolescenziale significa che lo vado a proporre a tutte le donne che hanno una cissia endometriosica e allora io sono dell'idea di fare una preservazione però probabilmente su casi molto selezionati e molto scelti dopo aver fatto probabilmente una un counseling diverso all'adolescente dicendo ebbene tu forse hai una endometriosi vedi che il tuo potenziale riproduttivo si potrebbe ridurre vedi di anticipare il tuo progetto riproduttivo ad un'epoca in cui riusciamo anche a intervenire con tecniche di riproduzione assistita però sentiamo le varie domande e poi rispondete in maniera generale allora io ringrazio tutti i relatori per le relazioni interessantissime e faccio una premessa Andrea può darsi che dopo questo mio intervento non mi chiamerai più però non è un problema allora il problema è in questi termini qui si parla di endometriosi ma l'endometriosi è una sindrome un conto è l'endometrioma e parliamo anche della dimensione degli endometriomi perché il dado somigliano e non solo lui ha dimostrato bene che non vale la pena operarli se gli endometriomi sono più piccoli di 3 centimetri ma chi li opera quando sono più piccoli di 3 centimetri l'endometriosi pelvica o l'endometriosi in stadio primo o secondo l'endometriosi in stadio primo o secondo la diagnosi la fai con la laparoscopia e magari se la fai con la laparoscopia siccome non riesci a stare fermo fai anche una DTC dell'ovaio allora quello che trovi in quell'endometriosi in stadio primo e secondo è dovuto alla tua attività iatrogena o è legato all'endometriosi in stadio primo e secondo certamente l'adenomiosi ha detto bene Pablo è una brutta gatta da pelare anche perché non siamo capaci di diagnosticarla e poi c'è un altro fatto forse molti di voi avranno questa esperienza ma voi lo sapete quanto è il tasso di gravidanza spontanea delle pazienti che hanno solo endometriosi come diagnosi di sterilità dopo una chirurgia per lo stadio terzo e quarto l'ha fatto vedere anni fa Vercellini con la laparotomia allora secondo me non possiamo parlare di endometriosi e sterilità come diceva Nico mettendo tutto insieme certo ci sono delle pazienti che devono fare la fertility preservation ci sono delle pazienti che se le operi soprattutto in un centro non adeguato è scritto l'ha scritto anche il mio amico Michele Vignali Premature Ovarian Failure dopo in nucleazione bilaterale ma io con Vignali e prima con Mangioni ne ho operate migliaia di endometriosi e questa cosa succede solamente quando tu fai la braciola dell'ovaio che rimane se no non succede mai a meno che non sia una recidiva e allora è tutto un altro discorso quindi secondo me siccome questo è un posto dove crescono anche i giovani non si può dare come messaggio operare mai fertility preservation sempre l'endometriosi e la sterilità l'endometriosi dipende da che endometriosi parliamo non mi ricordo chi qualcuno ha fatto vedere che l'endometriosi profonda deve essere operata no la letteratura dice proprio il contrario l'endometriosi profonda se tu cerchi una gravidanza e se tu cerchi una gravidanza con la fertility preservation non deve essere operata perché se operi l'endometriosi profonda soprattutto l'intestinale hai il 10% di rischi di 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 fistola certo perché se no facciamo ognuno di noi comincia a dire cosa fa cosa pensa l'endometriosi non la finiamo più nel senso se ci sono delle domande secche per i tre relatori e per le relazioni grazie domanda secca Eleonora come te anche noi facciamo fertility preservation avendo un centro di riferimento regionale per le endometriosi potevo fartela personalmente la domanda ma preferisco farla pubblicamente perché può essere da ausilio per altri la nota AFA 74 prevede la prescrizione delle gonadotropine solo per la paziente oncologica e a noi alcune volte ci hanno fatto storie va bene abbiamo dovuto cercare un accordo interno diciamo con la nostra ASL per far capire che al rischio di fertilità insomma lo stabilisco io come specialista il rischio di infertilità per chirurgia pelvica per endometriosi eccetera tu o altri avete avuto problemi nel prescrivere gonadotropine per queste pazienti? No La risposta è secca No Eleonora dopo rispondi a tutte le osservazioni La mia domanda è abbastanza anche cercherò di essere molto conciso non pensate che oggi noi dobbiamo distinguere l'impatto che ha l'endometriosi nella componente biologica perché cioè e dobbiamo definire che vuol dire componente biologica e qualità noi abbiamo pubblicato nel 2011 non l'ho visto in nessuna presentazione un lavoro dove valutavamo tre fattori fertilizzazione blastulazione ed euploidia endometriosi sì endometriosi no e non abbiamo trovato nessuna differenza e non pensate che quindi poi l'altro impatto è nella clinica e quindi l'approccio di congelare e poi trasferire dopo tre mesi di analogo facendola dopo però la terapia con analogo non prima della stimolazione possa essere valida sono breve veramente una domanda professore Saporcu tutte le diagnosi ecografiche quelle che hai fatto vedere quindi i vari stadi come con la vostra scuola ok tutte le diagnosi ecografiche invece per per quindi l'importanza di cercare di far fare a tutti quanti o comunque a molti la diagnosi ecografica di endometriosi professore Levisetti grazie per la relazione che io stamattina ho fatto sono arrivato tardi ho fatto una registrazione per un congresso in Cile e mi sono un po' vergognato di aver confuso ulteriormente l'idea di questi poveri cileni e aver usato troppo un termine che si sente molto tailor made che tu non hai usato e ti ringrazio però effettivamente a volte ci mettiamo davanti alla paziente costi benefici se c'è il dolore non c'è il dolore è veramente una delle patologie più complesse da trattare quando al dolore si associa con tutti quei fenotipi che avete descritto grazie buonasera sempre per la professoressa Porco ero l'ultima in fila quindi probabilmente molti punti sono stati già trattati però in maniera schematica come chiedeva il moderatore rapporto costo-beneficio di questo costo in termini sia di rischio clinico legato alla criopreservazione la preservazione della fertilità sia in termini economici per le pazienti soprattutto con i nomi rimostrati e col sample size per la labor rate che in questo momento non abbiamo quindi primo punto e secondo anche da donna che fa tanta chirurgia parlare solo di aggressione questo è già stato detto e ripeterlo più volte può essere fuorviante per l'endometriosi questo Andrea io volevo fare un'altra domanda nel senso che costo-benefici per le oncologiche è un qualcosa che uno pensa che sia giusto oppure no perché vi dico che non è giusto un'oncologica che fa una stimolazione pagata dall'AIFA e mette da parte gli ovociti ce ne hai purtroppo più della metà che non torna a prendere gli ovociti e gli altri non talmente tanto pochi perché tutti hanno paura a stimolare che in realtà di grave ce ne saranno pochissime e l'onora che è quella che ne fa di più forse ce lo può dire quindi se parliamo di questi benefici perdonatemi andiamo a finire in qualcosa dove io non riesco bene a capire perché noi qui oggi non decidiamo come spendere i soldi dobbiamo essere d'aiuto a quelli che spendono i soldi noi oggi qui ragioniamo sul fatto che una ragazza di 23 anni che ha un'endometriosi non della cistrellina che ovviamente è un po' diverso è una ragazza che potenzialmente al di là del fatto che tu Nico gli dica di trovare presto un uomo con cui fare un figlio e io sinceramente non riesco a dire so che ho due figlie che gli faccio fatica di trovo subito uno con cui fare un figlio perché loro mi pernacchiano e mi dicono col cavolo che trovo qualcuno quindi il primo problema è a queste ragazze corretamente cosa gli diciamo di cercare uno con cui fare un figlio oddio questo non è da medici è forse da genitori secondo abbiamo la possibilità di stabilire che abbiamo migliori risultati e l'onora ci ha fatto vedere i risultati e l'onora ovviamente è all'inizio su questa cosa però sono soprattutto donne immagino che erano già avanti con problemi di sterilità che sono state operate forse prima di fare una frequentazione in vitro in poco tempo quindi è evidente che stiamo parlando di risultati che sono pessimi perché se noi prendiamo ovociti pessimi in termini di quello che si può ottenere se prendiamo ovociti di una ragazza di 23 anni quindi la questione è perdonatemi oggi è giusto pensare che una ragazza che ha una patologia cronica come l'endometriosi dove nessuno riesce a fargli niente e che è indiscutibile che dieci anni dopo avrà problemi forti di fertilità perché se riesce ad avere una gravidanza se ne fotte e quegli ovociti li può donare in realtà se invece non riesce ad avere una gravidanza spontanea è meglio se li ha congelati oppure ma la domanda la stai facendo ai relatori o l'hai fatta a qualcuno di loro tre? allora Eleonora credo che tu debba rispondere a due o tre punti che ti hanno su cui sei stata stimolata se voi me li sono appuntati ma siete ricordati il costo beneficio e l'aggressione chirurgica sì allora sì che è l'ultima dottoressa collega dunque aggressione chirurgica chiedo scusa se ho usato il primo commento lo devi fare a me che sono stato lo devo fare a te che sei stato il primo io volevo fare quello finale se l'indicazione che dai è a tutte le endometriosi quindi anche alla cistare la di tre centimetri perché nell'ottica che le endometriosi è una patologia è una patologia secondo voi la qualità degli ovociti è peggiore nelle endometriosi quarto stadio rispetto ad un'endometriosi primo secondo stadio in teoria non dovrebbe essere dovrebbe essere identica lo stesso danno ovarico ci dovrebbe essere sia nelle endometriosi minimo lieve che in quella terzo quarto stadio nel terzo quarto stadio avrai anche una compromissione meccanica avrai anche un fattore tubarico ma non un'alterazione della qualità ovarica che dovrebbe essere fin dal primo stadio allora se tu hai fatto diagnosi di endometriosi a vent'anni con la cistarella e tre centimetri le dici poiché temi di avere un danno ovarico fai preservazione alla fertilità questo ti chiedo lo andiamo a chiedere a tutte o no? sì lo andiamo a chiedere a tutte scusate bisogna che cominciamo a dare delle risposte secche e univoche perché altrimenti usciamo di qui con una bella compagnia simpatica ma non fattiva nel senso che chi di noi non invita le proprie pazienti a fare figli presto cioè credo che sia ormai un mantra tutti quanti se abbiamo la fortuna cosa che è sempre più rara di avere una paziente sotto i 30 anni tutti quanti noi anche se magari viene perché ha una vaginite diciamo faccia un bambino mi raccomando cerchi di guadagnare tempo non perda tempo eccetera eccetera quindi credo che questo sia ovvio e lo facciamo tutti però di fatto come ha detto Andrea anche io ho una figlia molti di noi hanno figli ma ci fanno una pernacchia effettivamente se noi diciamo fatti i fatti tuoi mamma o zia o dottore eccetera quindi è chiaro che si dice cerchi di accelerare la gravidanza ma nel momento in cui c'è una nuce una cista di 3 centimetri che è poca ma è anche tanta e che mi dice questa appartiene a una categoria che potrebbe poi col tempo entrare nel loop infernale dell'endometriosi dell'infertilità eccetera eccetera io ritengo di proporle eventualmente se lei non mi fa un figlio immediatamente e dice benissimo guardi il mese dopo mi torna con la prova di gravidanza positiva io glielo propongo e così come sono nettamente contraria come molti di voi sanno invece alla preservazione della fertilità al famoso social freezing semplicemente per motivi di non ho un partner adesso lo metto da parte hai visto mai eccetera cioè nessuna indicazione medica quello io non lo concepisco e tra l'altro è legato ai costumi sociali di una organizzazione come la nostra nella quale la fertilità non è valorizzata ma in una paziente che ha l'endometriosi a mio avviso deve essere proposta così come la paziente col cancro assolutamente fuori di dubbio e questa è la mia opinione io sono stato in silenzio vi ho ascoltato ma ci sono delle cose che oggettivamente ho difficoltà a comprendere per alcune cose sono molto vicino a quello che diceva Nico all'inizio cioè io non posso immaginare che al primo pensiero di un sintomo sospetto di endometriosi imprescindibilmente dall'età di questa ragazza una ragazza che non ha neanche un endometrioma ecografico ma ha sintomi di endometriosi io debba fare un cancelling di preservazione della fertilità io non ci penso neanche cioè io faccio un cancelling di preservazione della fertilità in pazienti che hanno endometriosi lì dove secondo me ha un senso cioè lì dove c'è una cisti ovarica probabilmente bilaterale perché se devo pensare ad una bilateralità ed una necessità di essere chirurgico perché la paziente ha necessità per motivi di salute perché sta male ha una qualità della vita impossibile quindi sono costretto ad operarla contro la mia volontà non le opererei mai più lì so che è giusto dire a questa ragazza a qualunque età abbia dopo la mia chirurgia perché io sono particolarmente poco pratico in chirurgia dopo la mia chirurgia potrei avere dei guai e quindi per piacere preserva prima che io ti operi ma una ragazza che non ha una cisti endometriosica e che ha dei sintomi di dolore pervico cronico e ha 19-20 anni io non glielo faccio mai un cancering di questo genere e perché mai se non ha un problema ovarico non ha una cisti ovarica e gli ovociti come ci ha detto la dottoressa all'inizio ipoteticamente potrebbero essere peggiori ma non è che se io diciamo e in tutto non ne ho nessuna certezza perché diciamo c'è una letteratura infinita ma mi metto a fare una preservazione di fertilità a una ragazza adolescente perché c'è un dolore pervico cronico secondo me non c'è nessuna indicazione a farlo ma scusa chi ha parlato di dolore pervico cronico il dolore pervico cronico per carità assolutamente hai primi segni hai primissimi segni quindi una cisti ovarica monolaterale di 3 cm di 2 cm e mezzo per te deve fare una preservazione di fertilità secondo me sì posso fare una domanda posso fare una domanda però poi la chiudiamo se no non la finiamo è solo per dare perché non si è mai parlato di una cosa ve lo stavo aspettando se prima o poi fosse saltata fuori la terapia medica cioè una ragazza di 20 anni che ha una cisti di 3 cm ma forse le do alla pillola e progesterone anche per 10 anni quando ne avrà 30 e tornerà col partner o magari ritornerà da sola ne parleremo adesso secondo me forse effettivamente è un filo estremizzante proporre la fertility preservation considerato peraltro che non è passata dal sistema sanitario perché possiamo prescrivere tutto quello che vogliamo senza avere difficoltà ma di fatto la nota AIFA non ci permette di prescriverlo quindi la selezione dei casi a cui farla secondo me è importante filosoficamente la vorremmo fare a tutti ma la terapia medica è l'unica vera prevenzione attualmente accettata per tutte queste ragazze che non hanno un partner se funziona e se non funziona ci parla quante progredisco e quante non progredisco sotto terapia medica altra domanda altra domanda se no poi lui non ha il tempo di farla mi ha dato la mano da un bel pozo secondo me è una percentuale molto bassa adesso mi sono d'accordo con te e poi lascio la domanda che voleva fare Nico Colacurci per capire se per esempio questo dubbio della qualità vocitaria prima e post terapia medica potrebbe essere un'altra di quelle cose io poi voglio essere estremizzante perché oramai sono sempre estremizzante quindi vuol dire che se io ho una donna che ha avuto quattro vaggini di recidivanti ha avuto due infezioni da clamidia le propongo una preservazione della fertilità perché potrebbe avere una patologia tubarica cioè vediamo di fare preservazione della fertilità quando abbiamo un'indicazione precisa quando diamo le indicazioni secondo me corrette e limitate ad un qualcosa che non diventa social freezing che diventa che tutto il mondo deve andare a fare preservazione della fertilità altrimenti non usciamo tu mi dici il costo dell'oncologica ma l'oncologica è una donna che non può che vuole un figlio e non lo può avere e che quindi è giusto che facciano preservazione della fertilità per avere una scienza riproduttiva quando riavrà la possibilità fisica di poter riavere una gravidanza che è totalmente diverso dalla ragazza di 20 anni che non ha nessun progetto riproduttivo che ha davanti a sé altri 25 anni di vita riproduttiva e che potrebbe organizzarsi il suo periodo riproduttivo in maniera tale da programmare questo aspetto è chiaro che in particolare i casi andiamo a prevedere una preservazione però parli così perché c'è l'uovo donazione perché se non ci fosse l'uovo donazione noi siamo anziani e oggi pensiamo a quello che abbiamo fatto fino ad oggi e qui tutti pensano a quello che abbiamo fatto fino ad oggi i non anziani probabilmente pensano che mettere da parte degli ovociti indipendentemente da quello che noi oggi pensiamo che sia una cagata è un qualcosa che ti aiuta ad avere maggiori possibilità di successo se per caso avrai la sfiga di dover fare una fecondazione in vitro penso che questo sia il punto quindi tutto il resto a poco conto io non voglio ma questa però stiamo parlando di una cosa che è il social freezing ragazzi cioè no 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 ma non è vero ma non è vero no no scusate l'ho appena sentito no ma no assolutamente questa è medicalizzazione della riproduzione no 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 scusate Nico per favore nessuno più di me detesta la medicalizzazione della riproduzione di fatto l'ho dimostrato in tutti i modi possibili chiaramente nel comportamento c'è il buon senso e la buona pratica clinica di tutti noi quindi la terapia medica è che caspita nel centro diretto del professor Seracchioli si fa tantissima terapia medica non è che si dice a lei allo sbaraglio la chirurgia ripeto alla collega che diceva si è parlato troppo di aggressione per carità non voglio essere detrattore della chirurgia e dire che è soltanto un'aggressione dico solo che talvolta in giro per il mondo si sente l'operazione l'intervento sulla cista o cistarella di 3 cm io dico solo che dobbiamo cambiare mentalità ed essere flessibili nel senso di non escludere la possibilità anche in giovani donne facendo la valutazione caso per caso poi chiaramente di mettersi avanti con i lavori perché noi tutti che lavoriamo nella fertilità sappiamo benissimo i casi disparati che ci capitano e alla fine sei sempre dalla parte dell'ultima spiaggia ti ritrovi sempre con l'acqua alla gola quindi io credo che comunque cercare di il più possibile mettere nell'occhio anche dalla stessa paziente guarda o fai un bambino subito oppure forse è bene che preseri la fertilità tieni presente che hai un punto interrogativo nel tuo percorso questo non vuole dire essere terroristi non vuole dire essere interventisti e tantomeno non datemi del social phasing a me che mi incazzo veramente ultima domanda e poi chiudiamo grazie volevo uscire da questo campo delle insomma dichiarazioni personali o di esperienza e rifacendomi agli interventi precedenti volevo sapere soprattutto da Paolo Levisetti se avesse mai preso in considerazione i dati relevanti dall'utilizzo della scleroembolizzazione delle ciste endometriosiche ci sono dei dati in letteratura piuttosto robusti che ci mettono in una condizione di assoluta tranquillità e di cui non sento mai parlare nel corso di questi grazie io volevo soltanto rispondere a io ho cercato di parlare della paziente con endometriosi che fa la fertilizzazione in vitro punto non di quello che dovrebbe essere dovremmo insegnarlo il patrimonio del ginecologo di base di base hai capito che vede una donna giovane che ha una storia di menopausa anticipata che le fai un eco mentre non prende la pillola c'ha due ovaiette così una conta degli antrali brutta un sospetto di endometriosi non molto sintomatica che dovrebbe far parte di tutti i ginecologi di base sul counseling sul come eccetera dopodiché dobbiamo distinguere vero la donna sintomatica vera che ha una qualità della vita di merda è l'unica in cui purtroppo devi tentare anche se spesso non ci riesci di dare un miglioramento della qualità della vita se ci riesci con la terapia medica se no con la chirurgia ma è un'altra storia il suo problema è che sta male dopodiché la paziente che ha una condizione di endometriosi operi non operi la terapia medica ci provi è una situazione su cui mi sembra che certezze vere vere non ne abbiamo vorrei ricordarvi soltanto una cosa però e che la donna deve saperlo che se fai un prelievo degli ovociti a una donna che ha endometriomi il rischio di una sepsia è il doppio e se ha degli endometriomi recidivi è quattro volte tanto e quindi non è che dici qualunque roba di endometriosi le fai i pick up e va tutto bene perché spesso poi chi le fa il pick up non vede le conseguenze la risposta alla domanda sua sulla trattamento della mi sembra che è come sullo sclero embolizzi piuttosto che lo svuoti e fai solo la bruciatura delle lesioni endocistiche sono vent'anni che andiamo a a capire qual è la terapia meno aggressiva nonostante le recidive credo che non sia l'embolizzazione la soluzione oggi da questa tematica perché sull'embolizzazione c'è una moda adesso se daressimo dar retta ai vascolari appena la donna ha un po' un po' di varicocele perdico se non si embolizza non sta bene bene mi dicono che dobbiamo interrompere la discussione quindi diamo il passo a 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 allora io ho una breve sessione di aggiornamenti in PMA nella quale ho il piacere di introdurre la dottoressa Chiara Scibetta buon pomeriggio che è una biologa e oggi però invece di parlare di aspetti biologici strettamente connessi con la pratica ci da un aspetto un po' più ampio che è la PMA tra la norma e la biologia, quindi un approfondito degli aspetti più legati agli aspetti sociali, alla legge e a come appunto questo contesto più ampio si inserisce poi nel mondo della PMA. Prego. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Parto da ringraziare gli organizzatori per questa bellissima opportunità ad Atami e anche la dottoressa Bariani per la sua moderazione. Allora, nel tempo che ci ha dato faremo un excursus su quelli che sono i problemi dilaganti ormai legati all'infertilità facendo un focus su quelli che sono gli aspetti normativi ma anche quelli biologici. Questa domanda ovviamente è retorica dato che ormai il declino demografico è un problema molto importante tanto da essere alla base di quello che è l'invecchiamento di tutte le popolazioni. Questo grafico è molto interessante per la rappresentazione che Roser dà della diversa velocità del declino del tasso di fertilità totale, TFT, nei vari paesi del mondo. Infatti, nei paesi del mondo in cui c'è stato uno sviluppo socio-economico ormai raggiunto il declino del TFT è andato più lentamente rispetto a tutti quei paesi in via di sviluppo. Ad esempio, negli Stati Uniti e in America il passaggio da più di sei figli per donna a meno di tre ha richiesto quasi un secolo. Stesso passaggio che in Cina, ad esempio, ha richiesto solo 11 anni. Questa immagine mostra il declino del TFT sia a livello mondiale ma anche prendendo in considerazione l'Europa e la sola Italia. A livello mondiale il TFT è diminuito dal 1950 al 2015 da 5 figli per donna a circa 2,5. Una stessa riduzione che c'è stata anche in Europa e in Italia ma focalizzandoci sull'Italia e ampliando un po' la tempistica, quindi andando dal 1861 al 2020 il TFT è passato da 5,1 a 1,27 che è il numero che attualmente è il più basso in tutta Europa ed è anche il più basso al mondo insieme al Giappone. Ma a soggiacere a questo forte declino il motivo più importante è proprio questo mutamento socio-economico. Perché? Perché ha dato la possibilità di accesso a sempre più donne, a quelle che sono carriere lavorative ma anche percorsi di istruzione e quindi questo ha portato sempre più donne a ritardare quello che è il desiderio della prima gravidanza fino addirittura alla quarta decade di vita. Inoltre, in concomitanza con questo mutamento, c'è stato anche negli ultimi anni un drastico cambiamento degli stili di vita, che ovviamente ormai si sa come fumo, obesità, piuttosto che l'abuso di alcol ma anche l'esposizione a sostanze chimiche e inquinanti ambientali, ultimo ma non ultimo lo stress psicofisico abbiano effetti negativi ad ampio raggio sia sulla fertilità maschile e femminile ma anche sulla gravidanza e sul suo esito. L'età femminile. L'età femminile è il principale limite naturale posto alla fertilità. Fertilità che nella donna, come abbiamo sentito anche in altre relazioni, subisce un primo brusco calo all'età di circa 35 anni per poi subirne uno ancora più drastico all'età di 40 anni. I motivi biologici sono ormai noti, lo spettro è molto ampio, io qui cito solo i principali tra cui appunto la riduzione della riserva ovarica ma anche la riduzione della qualità degli ovociti in più c'è un aumento drastico delle neoploidie cromosomiche e un aumento delle patologie a carico del sistema urogenitale e anche una crompomissione di importantissimi meccanismi epigenetici. Non mi soffermo oltre a riguardo perché insomma sono argomenti che tutti noi conosciamo. Però questi motivi biologici appena citati non sono stati gli unici fattori a condizionare questo rapido e drastico declino della fertilità. Infatti molto importanti sono state quelle decisioni politiche demografiche assunte da vari paesi che spesso anche si sono trovate in contraddizione fra loro. Ad esempio in Italia nel 1925 dove la natalità e la crescita della popolazione era visto come il vero bene della nazione, la prole era addirittura incentivata tramite benefit economici, certo in un periodo in cui ovviamente il ruolo della donna era confinato a quella di madre di casalinga. Caso opposto quello della Cina che nel 1979 decide di attuare la politica del figlio unico disincentivando fortemente la crescita della popolazione salvo poi renderti conto negli ultimi anni che questa decisione politica era molto impattante nel declino demografico e di conseguenza anche nello sviluppo economico del paese. Ma focalizzandoci un attimo sull'Italia che è quello che anche insomma a noi interessa di più, qual è stata un po' la situazione normativa nel nostro paese? Beh, fino al 2004 non c'era alcuna legge che normasse la PMA in Italia ed è solo nel marzo del 2004 che vide la legge 40, norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Nodo centrale di questa legge fu il riconoscimento dell'embrione come soggetto di diritto che però sanciva una serie di obblighi molto restrittivi. Infatti la legge vieta la PMA di tipo eterologo, la sperimentazione sull'embrione, la crioconservazione e la soppressione dell'embrione stesso, la creazione di più di tre embrioni che dovevano poi per giunta essere utilizzati in un unico impianto e anche qualsiasi tipo di screening genetico sull'embrione. Ecco, viene quindi spontaneo chiedersi se vista così questa legge abbia recepito tutti i mutamenti che finora noi abbiamo visto e di cui abbiamo parlato e soprattutto se questa legge così com'è abbia soddisfatto e soddisfi quelli che sono i bisogni in tema di maternità. Beh, è una legge che presenta delle criticità, è arrivata molto in ritardo rispetto a tanti altri paesi del mondo a causa di un iter parlamentare pensate durato ben 19 anni, un iter così lungo perché è stato alimentato da dei dibattiti sia di diversa matrice diciamo etica, culturale, laica e cattolica che l'anno dopo, quindi nel 2005, hanno portato ad un referendum abrogativo che fu senza successo a causa del mancato raggiungimento del quorum. Questo a dimostrazione di quanto non fosse presa in considerazione la rilevanza sociale di questa tematica. Poi abbiamo visto pesantissimi divieti, poneva dei divieti veramente molto pesanti e non solo, era in contrasto con degli importantissimi articoli della Costituzione italiana riguardo al principio di autodeterminazione, cioè autodeterminazione nella sfera fisica ma anche in quella morale, in quella familiare e nell'accezione della salute in senso più ampio. Inoltre l'articolo 5 della legge 40 parla solo di età potenzialmente fertile, ma quale sia questa finestra di età potenzialmente fertile non è stato specificato, lasciando nel tempo spazio a numerosi dubbi e interpretazioni su quale fosse l'età massima di accesso alla PMA nel sistema pubblico. La legge poi finisce plurime volte in tribunale, viene smantellata nel tempo a suon di sentenze e di pronunciamenti tra cui cito solo le tre fondamentali che sono la sentenza della Corte Costituzionale 151 del 2009 che rende possibile la crioconservazione degli embrioni, la sentenza a Corte Europea del 28 agosto 2012 che rende possibile la diagnosi genetica per impianto e quella della Corte Costituzionale 162 del 2014 che di fatto cancella il divieto di fecondazione eterologa. Quindi in mezzo a tutto questo guazzabuglio normativo viene quasi implicito chiedersi se la PMA sia stata ed è un diritto esigibile della coppia in un paese in cui l'infertilità di coppia riguarda il 25% di tutti i soggetti in età riproduttiva e in un paese in cui il 5% dei bambini attualmente è nato grazie alla PMA. Ovviamente con differenti probabilità di successo in base all'età della donna, come è stato detto anche qui più volte nel corso della giornata e anche le tecniche utilizzate. Ma entrando un attimo nello specifico vi mostro i dati presi dal Registro Nazionale Italiano della Procreazione Medicalmente Assistita relativi all'anno 2018 che mettono in chiara correlazione quella che è l'età della donna con i tassi di gravidanza e di tassi di parto per quelle che sono le tecniche di primo livello a fresco. L'esito negativo come si vede dall'immagine per donne di età con più di 42 anni è stato sei volte, nello specifico 6,3 volte maggiore rispetto a una giovane donna. Analogo andamento e analoga correlazione fra l'età della donna e le percentuali di gravidanza e per le tecniche di secondo e terzo livello a fresco, sempre nel 2018, in cui ad esempio la percentuale di parto nelle donne con meno di 35 anni è stata del 33%, contro un solo 3,3% delle donne con più di 43 anni. Ma questi risultati ora c'è da chiedersi se siano fattibili su tutto il territorio nazionale e se la legge 40 abbia posto le basi perché questa domanda, perché ciò sia fattibile. Sicuramente per quanto riguarda i limiti di età in anni non compiuti ma anche il numero massimo di cicli, questo attualmente non è vero perché ogni regione ha normato in modo autonomo quelli che sono i limiti di età massima di accesso al sistema sanitario nazionale ma anche il numero massimo di cicli. Mi focalizzo sul numero di età di accesso massima che passa da un 42 anni ancora non compiuti fino ad arrivare a 50 anni non compiuti. Non va molto meglio per quello che riguarda i costi che le coppie si sono trovate a sostenere sia di tasca propria sia tramite pagamento di ticket perché questa è un'indagine del census del 2016 che mostra proprio enormi disparità di costi. Andando un attimo a vedere il pagamento che le coppie hanno dovuto sostenere di tasca propria si va da 5.200 euro del centro Italia passando a 4.200 euro del nord Italia fino ad arrivare a 2.900 euro del sud Italia e isole. Per quanto riguarda invece il pagamento tramite ticket anche qui si viaggia dai 700 euro del centro Italia si passa ai 370 euro per quanto riguarda sud Italia e isole fino ad arrivare ai 280 euro del nord Italia. Quindi quali sono le conseguenze di queste, aggiungo logiche, conseguenze di queste restrizioni poste da alcune regioni? Beh l'esodo nel tempo sempre più alto delle coppie infertili verso regione con migliore accessibilità. Come dimostra questa cartina che è sempre del registro nazionale della procreazione medicalmente assistita relativo al 2018 che con diverse gradazioni di verdi mostra quelle che sono il numero di cicli su un milione di donne in età fertile però quello che a noi interessa di più è il numero fra parentesi ovvero la percentuale di cicli effettuati su donne provenienti da fuori regione e questa cartina quindi evidenzia come ci siano delle regioni che sono più accessibili rispetto ad altre. Nel tentativo quindi di superare appunto queste disomogeneità e di uniformare anche l'offerta su tutto il territorio nazionale col decreto ministeriale 12 gennaio 2017 la PMA viene inserita nei LEA ma a distanza di quattro anni cosa è cambiato? Beh non è ancora purtroppo garantita l'equità di accesso, non è garantita in un paese in cui la percentuale di centri pubblici privati accreditati e privati è notevolmente diversificata da regione a regione e dove il sistema sanitario nazionale copre solo il 36,9% dei centri in tutta Italia. Quindi alla luce di tutto quello che abbiamo detto viene implicito chiedersi e cercare di ottenere delle soluzioni urgenti, soluzioni urgenti specie in un'epoca post covid in cui alle già lunghe liste di attesa si è aggiunta anche in epoca pandemica la sospensione delle attività di PMA per un certo periodo e questo non ha fatto altro che aumentare le già lunghe liste di attesa. In più non bisogna dimenticare che è un problema che ha assunto una grandezza tale da diventare un problema collettivo, è un problema di interesse sociale, non riguarda assolutamente più il desiderio privato di una coppia di avere un bambino proprio per le dimensioni che ha raggiunto. Quindi un problema così impattante, aggiungo personalmente, penso che sia impattante anche dal punto di vista emotivo, necessita di soluzioni urgenti. A mio parere le soluzioni sono quelle intanto in primis di garantire l'EA su tutto il territorio nazionale, poi di apportare degli interventi strutturali di potenzialmento dell'offerta data e di uniformare quelle che sono le tariffe su tutto il territorio e dare anche però sostegno alle coppie. In più agire sulla prevenzione, molto importante, prevenzione intesa come diagnosi precoce di infertilità, interventi sugli stili di vita dei soggetti, ma anche campagne comunicative su larga scala che attualmente mancano anche molto. Il tutto si può tradurre in dei nuovi modelli organizzativi. Andando un attimo a fare un focus sulla proposta economica, è da segnalare la legge di bilancio di previsione dello Stato del 30 dicembre del 2020, che al comma 450 vede riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro l'anno in più per le coppie con infertilità e sterilità per il loro accesso alle prestazioni di PMA. Il 5 agosto di quest'anno la conferenza Stato-Regioni dà parere favorevole allo schema di decreto ministeriale che si occupa di elargire, di suddividere il finanziamento fra le varie regioni. Invece per quanto riguarda la proposta organizzativa, la prevenzione e il trattamento dell'infertilità può essere adeguata solo con un modello organizzativo che garantisca in primis tempestività ed omogenità di intervento, appropriatezza, ma anche qualità, intesa come tecnologie innovative, qualificata competenza professionale e soprattutto anche integrazione fra le varie figure professionali che ruotano attorno all'infertilità di coppia. Ecco, tutto ciò può essere reso possibile con dei percorsi esistenziali condivisi, che sono tradotti in una logica di rete su tutto il territorio nazionale, con centri hub e centri spoc che sono collegati capillarmente a consultori familiari, ad ambulatori ospedalieri e anche a centri privati accreditati. Ecco, aggiungo anche che ci dovrebbe essere una sorta di monitoraggio perché attualmente non ci sono degli indicatori di processo e degli indicatori di esito. Mi spiego meglio. Possiamo affermare con certezza che tutte le procedure che noi facciamo in un anno siano appropriate? Ecco, quindi secondo me muovendosi lungo queste direzioni, però con tempi anche tempestivi, noi possiamo tentare anche di risolvere questa emergenza che appunto ha un interesse ormai collettivo e sociale. Grazie per l'attenzione. Non ci sono domande? Prego. Grazie, grazie per la tua relazione. Ma soprattutto ti ringrazio per aver focalizzato l'attenzione sul problema della denatalità, che è un problema che in Italia ancora non è stato ben focalizzato sugli effetti che già sta producendo. Il livello di denatalità che abbiamo raggiunto, come hai detto bene tu, non solo ci pone nel mondo tra i paesi che hanno questo grosso problema, ma già lo vedremo nei prossimi anni sui programmi di stabilità del sistema pensionistico, per esempio, della garanzia dei posti nella scuola, eccetera, eccetera. E tra gli aspetti che tu hai citato, hai citato il fatto che la donna cerca di avere la gravidanza nell'età più avanzata, io vorrei suggerirti anche di considerare la disinformazione, perché il modello che si dà alle donne italiane è che si può avere la gravidanza in qualunque età. Ci sono dei testimonial che hanno dichiarato di aver avuto gravidanza in età avanzata, omettendo come. Ora, ci vorrebbe un'informazione istituzionale, che coinvolga anche le società scientifiche di nostra competenza, che forniscano informazioni. L'altro aspetto che volevo condividere con te è che un modello organizzativo sulla programmazione della fertilità territoriale esiste già. C'è il decreto della Lorenzin che aveva organizzato la rete territoriale sulla fertilità, che è un documento che io ho studiato, ho letto, ed è molto razionale, ma non capisco perché nessuno ha mai preso in seria considerazione un'organizzazione territoriale che impedisca una coppia che a 30 anni scopre di non avere figli e che girando tra medici, ginecologi, arriva ad avere una diagnosi a 40 anni. Grazie. Grazie a lei. Tutte cose molto giuste, purtroppo. Scusami solo una precisazione perché sennò magari passo un messaggio sbagliato. In Italia è vero che c'è una rappresentanza di centri pubblici forse minore, ma le tecniche di proiezione medicalmente assistite sono rimborsate nel 69% dei casi dal sistema sanitario nazionale. E a livello paese è molto se ci confrontiamo in Europa. Il problema poi è, come tu hai evidenziato nella tua relazione, la differenza di accessibilità regione per regione. Una volta che ci sarà una tariffazione e quindi le tariffe appropriate a Elea, ci auguriamo che tutto questo poi vada a scomparire. Però ci tenevo a dire che il 70% delle tecniche sono rimborsate dal sistema sanitario nazionale. Vero. Grazie per l'intervento. Bene. Penso che dobbiamo chiudere perché siamo un po' in ritardo. Io ti posso solo invitare magari a cercare di mandarla al Ministro questa presentazione perché purtroppo tutti noi bene o male sappiamo un po' che questo è un vero problema e penso che lo condividiamo tutti quanti e lo sentiamo come un'emergenza, quindi non soltanto per la PMA ma anche in generale nel percorso, nel problema della natalità in Italia. Quindi bisogna intervenire e speriamo che qualcuno lo faccia. Grazie, grazie a voi.